E' un gran bel giro, è un gran bel giro, è una grande festa e musica, è un gran bel giro, è un gran bel giro, fa suonare tutta l'anima. Bentornati al Giro d'Italia gentili telespedatori, undicesima tappa da Marostica in provincia di Vicenza a Zoldo Alto sulle Dolomiti Bellunesi. Quattro gran premi della montagna in programma oggi, una tappa destinata a sconvolgere la classifica generale. Ci si aspetta battaglia vera qui sulle rampe del Passo Duran e soprattutto nei chilometri conclusivi verso Zoldo Alto. Subito la situazione, percorsi 75 chilometri, dunque siamo a metà percorso. Joachim Benoit, atleta lussemburghese della Discovery Channel, ha tuttora un vantaggio superiore ai quattro minuti sul gruppo. Ma dopo il traguardo intergiro è uscito dal plotone Scarselli, atleta della Selle Italia-Colombia. Per Scarselli il ritardo da Benoit Joachim è di due primi e venti secondi, il plotone insegue a quattro e diciotto. Davide Cassani, tutto è pronto per le montagne vere? È tutto pronto per le montagne vere, primo arrivo in salita, questa mattina partenza alle 12.56 da Marostica. Gli ultimi 60 chilometri è tutto un salire e scendere. Si comincerà con il Passo Cereda, ma tutti hanno timore del Passo Duran. Una salita difficile, una salita lunga che è a pochi chilometri dal traguardo. In rapida successione vediamo i volti dei protagonisti, immagini del ritrovo di partenza dalla piazza degli Scacchi a Marostica. La classifica generale vede sempre al comando l'abruzzese Danilo Di Luca con nove secondi di margine su Ivan Basso. Al terzo posto Paolo Savoldelli, al quarto Damiano Cunego, quinto Dario David Cioni, sesto Gardini, decimo Gilberto Simoni. Il via alle 12.50, chilometro zero da Marostica dopo tre chilometri il tentativo di Benoit Joachim. Il gruppo ha lasciato fare per modo di dire, al massimo, questo atleta lussemburghese ha guadagnato 4 minuti e 30 secondi. Dal momento che è un compagno di squadra di Savoldelli, la Lampre Cafit ha timore di questo attacco e non ha lasciato troppo spazio al campione lussemburghese che vediamo inquadrato in questo momento. Salita iniziale quella della Rosina, molto cara ai cicloamatori Vicentini. Questo è il ponte di Bassano, l'antico ponte del Palladio sul Brenta. Poi l'ascesa alle scale di Primolano, là dove si fece male Fausto Coppi, dove il campionissimo si ruppe il bacino nel 1950. Gruppo compatto però con Liquigas e Lampre a fare l'andatura. Un segnale ben preciso da parte di queste due forti formazioni. Eccoli qua, stanno andando come il treno sulla destra, gli uomini della Lampre con Stangel, con Sabagliauskas, sono loro che tengono alto il ritmo per il momento di Luca in maglia rosa, tranquillo, sereno, sta a ruota. Questo è il traguardo intergiro, immagini registrate da pochi minuti a Fonzaso, sessantesimo chilometro. E' passato Joachim e Bettini conferma ogni giorno di più che vuole a tutti i costi la maglia ciclamino. Anche perché Robby McEwen, l'australiano titolare della classifica a punti, non sappiamo se completerà il Giro d'Italia. Almeno gli anni scorsi si faceva il suo giro a metà e poi salutava tutti per preparare il Tour de France. Con questo secondo posto Bettini ha guadagnato sei punti nella speciale classifica della maglia ciclamino e adesso di punti ne ha 112. Ricordiamo che McEwen di punti ne ha 116. E' appena arrivato un comunicato importante dell'Unione Ciclistica Internazionale in merito ai sequestri effettuati ieri dai NAS nell'albergo che ospitava la Davita Monlotto e la Sonie Duval Prodir. L'Unione Ciclistica Internazionale è il massimo organismo del ciclismo. Dunque, questo è il comunicato, ve lo traduco perché è scritto in francese. L'apparecchio sequestrato non è vietato dalle principali istituzioni sportive, CIO, quindi Comitato Olimpico e Federazioni Internazionali. E non è vietato nella maggior parte dei paesi europei. Questo apparecchio si chiama Altitrainer che in pratica sostituisce l'altura, fa in modo che il corridore respiri aria rarefatta. E' utilizzato l'altitrainer spesso nei centri d'allenamento dei comitati olimpici nazionali. Questo è scritto nel comunicato. Rispettando pienamente le specificità della legge italiana, la legge italiana ritiene vietato questo apparecchio, è una situazione questa che dimostra l'urgenza di un'armonizzazione delle norme in materia della lotta al doping. Sui flaconi sequestrati alla Sonia Duval, inoltre, si rileva che i NAS non hanno annunciato il ritrovamento di prodotti proibiti. E questo è motivo di grande soddisfazione. Ripeto, sto leggendo il comunicato dell'Unione Ciclistica Internazionale. Manifestiamo solidarietà a Sonia Duval Prodir e a David Amon Lotto perché possano serenamente proseguire il proprio lavoro. Dunque, Luci ha messo le cose in chiaro, rispettando però la legge italiana. Ma è intervenuto in merito anche il sottosegretario con delega allo sport, onorevole Mario Pescanti, il quale ha detto, io sono anni che mi batto perché ci sia armonizzazione, uniformità di trattamento nella lotta al doping, ma vengo purtroppo poco ascoltato. Quindi deve intervenire la politica in questo caso. Davide? Sì, penso che la cosa più importante è uniformare tutte le leggi che ci sono qui in Europa, così non ci sono più problemi. Ci colleghiamo adesso con Radio Corsa. Professor Fagnani, la situazione e l'ufficializzazione dell'Intergiro. Sì, buon pomeriggio anche da Radio Informazioni. Questi passaggi ufficiali all'Intergiro, che era situato in località Fonzaso, sempre al comando intanto Benoit Joachim, che è inquadrato in questo momento, corridore al comando praticamente dall'inizio della tappa, e infatti anche a Fonzaso, località del traguardo Intergiro, che è stato primo Joachim, con un vantaggio di 3 minuti e 51 secondi a quel punto sul gruppo, in seconda posizione Bettini, quindi in terza posizione Kraus, seguito da Schmitz, Di Biase, Zanini, Pozzato, Schnieder, Ziegler e Baldato. Kraus mantiene la maglia di leader della classifica Intergiro, essendosi classificato in terza posizione a questo traguardo di oggi. La media a quel punto era di 43,190, mentre l'ultimo dato dopo due ore di corsa, la media è scesa a 39,500. L'ultimo vantaggio di Joachim su Scarselli, l'immediato inseguitore, un minuto e 35 secondi, mentre il gruppo viaggia sui 4 minuti. Siamo in località Fiera di Primiero, dove è posto il rifornimento fisso. Grazie al professor Fagnani, dunque andiamo a vedere adesso quello che aspetterà i corridori. Questi quattro gran premi della montagna, può partire la ricognizione effettuata da Davide Cassani con Ivan Basso, uno dei favoriti del Giro. La squadra lunetica non è molto lunga, 150 chilometri. A 63 chilometri dall'arrivo comincia la prima vera salita, il passo Cereda. Oggi qui c'è un corridore che il Giro vuole vincere ed è ricognizione. Adesso proviamo a seguirlo, così lui ci può dare indicazioni molto utili. Mi aspetti però, eh! Misura 8 chilometri, i primi due sono i più difficili, le pendenze arrivano anche al 10%, poi diventa più pedalabile. Di chilometri ne mancano 30, all'arrivo, che comincia il passo Duran. Oh ma, è sempre più dura, eh! I primi quattro sono irregolari, poi pendenze costantemente dal 9 all'11% con una punta al 15. Una punta per modo di dire, perché per un chilometro è veramente impegnativa, dove la strada è stretta. Il pezzo duro finisce al chilometro 42, pietra miliare. Gli ultimi due sono molto facili, pedalabili, ma questo non pensavo fosse così dura. Qua su in cima arrivano uno alla volta, sparpagliati sicuro, eh? Che dici? Penso anch'io. La discesa del Duran è tecnica, misura 8 chilometri. Attenzione perché l'ultimo tratto è ripido, con la strada molto stretta. Dal fondo mancano 9 chilometri, tutti in salina. Poi c'è questa salita finale che ci sono delle variazioni di ritmo importante. Fatta a scalini, no? I due chilometri e mezzo sono già abbastanza impegnativi. La strada è larga, ma inganna. Sì, infatti è una pendenza importante. Poi si recupera un po' e poi sono ancora duri gli ultimi due chilometri. Fa molto difficile, poi essendo anche la prima tappa vera di montagna. Per me questa fa differenza. Fa una grossa differenza. C'era neve sul Duran e anche qui a Zoldo Alto, quando ha effettuato la ricognizione Davide Cassani, un mese fa circa? Sì, un mesetto fa. Era una giornata fresca, c'era ancora molta neve. Ed ecco qua il lancio del pallone sonda da parte dell'aeronautica. Maggiore Tajani ci spiega le funzioni di questo pallone sonda. Sì, dunque, questo pallone sonda, come abbiamo qualche volta detto, è uno strumento sofisticato che, andando in quota, come lo possiamo vedere, misura ogni 5 secondi tutti i parametri meteorologici importanti che vengono trasmessi a terra. Immaginate che questa piccola scatoletta, che tra l'altro ce l'ho qui, non so se è possibile vederla, al di là... Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 non dilatasse, al massimo ha avuto poco più di 4 minuti, adesso nel seguimento si è portato Scarselli, questa è la salita che porta verso il passo Cereda, misura 8 km, ci sono alcuni tratti abbastanza impegnativi, qui probabilmente non succederà niente, staremo a vedere perché dovrebbe esserci la classica selezione da dietro, nel senso che il gruppo perderà chilometro dopo chilometro elementi. Sono convinto che succederà poco tra gli uomini di classifica ma qualche attaccante già sul Cereda proverà ad andarsene, chiedo conferma a Silvio Martinello, ciao Silvio. Ben ritrovati anche da parte nostra, sì il Cereda malgrado sia posto lontano dall'arrivo è una salita che presenta delle pendenze anche importanti, quindi difficilmente ci potrà essere la battaglia tra gli uomini di alta classifica, però qualche attaccante coraggioso particolarmente dotato per questo tipo di percorsi potrebbe già farsi vivo. Leonardo Scarselli potrebbe tra qualche chilometro raggiungere Benoit Joachim che sembra in palese difficoltà, Leonardo Scarselli è un toscano di Isola San Miniato, provincia di Pisa, sempre un minuto e mezzo il vantaggio di Benoit, Joachim su Scarselli, il gruppo a 4 minuti. Già la catena sul 39-23, 39-21, vedete che la fatica comincia a farsi sentire, non è una velocità sostenutissima quella tenuta dal corridore lussemburghese, mi sembra che vada leggermente meglio Scarselli, ma questi due corridori sono destinati ad essere ripresi dal gruppo. Attendiamo notizie da Fabretti quando sarà disponibile il collegamento, quindi tra qualche minuto avremo aggiornamenti sul gruppo. Dopo il Cereda passo Duran, ci ha telefonato il sindaco di Agordo dicendo noi pronunciamo Duran, quindi vi saremmo grati se anche voi diceste Duran, ma l'abbiamo detto in apertura di trasmissione in provincia di Belluno, lo chiamano Passo Duran, ma la pronuncia è Duran, dunque di qui in avanti sarà così. Il rifornimento è stato effettuato a fiera di Primiero, a quel punto la corsa ha svoltato a destra, a sinistra la strada avrebbe proseguito verso il Passo Roll e invece per arrivare qui a Soldo Alto i corridori affrontano questa salita Passo Cereda e come vedete gli uomini della Lampre stanno tenendo un ritmo molto molto alto, anche loro hanno cominciato la salita verso il Passo Cereda. Questo è un segnale che lascia spazio a poche interpretazioni, oggi Simoni e Cunego vogliono rendere dura la corsa, Silvio. Eh sì, Auro, poche interpretazioni da quello che abbiamo visto fin dal mattino, subito la Lampre caffitta a tenere saldamente in mano le operazioni, ora cominciano le salite e chiaramente per loro diventerà importante tentare di far recuperare i loro uomini di classifica il ritardo che hanno nei confronti soprattutto di Ivan Basso, è una tappa come abbiamo già avuto modo di dire che in qualche modo gli favorisce perché insomma le salite sono adatte soprattutto a scattisti come Basso, scusate, come Simoni e Cunego e la loro squadra naturalmente ha già preso in mano le operazioni. Leonardo Scarselli, inquadratura dedicata a questo ragazzo del 1975, nato il 29 di aprile da segnalare un suo successo in una gara in Africa, Tour del Senegal, due anni fa. Sì, ha vinto la classifica finale del Giro del Senegal due anni fa, l'anno scorso nessun successo, al Giro d'Italia si ritirò nella tappa di Falzes, era la sedicesima, come miglior piazzamento anche lo scorso anno al Giro del Senegal quando si è piazzato quarto nella classifica generale. Una delle peculiarità della squadra diretta da Gianni Savio è che ha vinto corse in tutti i continenti, dall'Oceania all'Africa all'Europa, all'Asia e al continente americano, soprattutto in Colombia ma... Non solo in Colombia, anche in Venezuela, Argentina... Argentina, sì, è una squadra che comincia a correre molto presto, essendo una squadra colombiana cominciano a correre già da gennaio con la Vuelta al Tacira, una corsa che si è svolta in Venezuela, vinta da José Ruiano che è andato molto bene l'altro giorno nella tappa di Pistoia. Ottantottesimo chilometro per Benoit Joachim, è a 5 chilometri dal Gran Premio della Montagna, in questo mosaico che ci viene proposto da Nazareno Balani, vediamo il fuggitivo, in alto a sinistra l'immediato inseguitore, ovvero Scarselli, a un minuto e mezzo e il gruppo a 4 e 10. Ritiro di Daniele Nardello, poco fa, non inquadrato dalle nostre telecamere, poi Alessandro Fabretti ci chiarirà i motivi di questo ritiro, un Nardelli mai in evidenza purtroppo nei primi dieci giorni. Ha cominciato male la stagione con la caduta al Giro del Qatar e poi tanti ritiri, si è ritirato l'EdVolk inizio marzo, si è ritirato l'Attireno Adriatico, non è riuscito a fare nessuna classica, si è presentato alla partenza di questo Giro d'Italia in non buone condizioni di forma e non è riuscito a trovare quel colpo di pedale che gli ha consentito negli anni scorsi di indossare la maglia azzurra, di vincere Zurigo, di vincere tante corse e oggi ha messo piede a terra. Un fortino abbandonato e si sta pedalando adesso in provincia di Trento. Per 15 chilometri dalla provincia di Belluno ci si inoltre nella provincia di Trento, poi il passo Cereda riporterà gli atleti nella provincia di Belluno. Saranno proprio le dolomiti bellunesi a vivacizzare, ad emozionare il pubblico con il passo Duran e Zoldo Alto. La salita verso Zoldo Alto non è che la salita di Forcella Staulanza. La vetta è proprio qui a 2 chilometri, mentre abbiamo visto la grafica tridimensionale, Fiera di Primiero e proprio lì è cominciata la salita che porta al passo di Cereda. 14 chilometri orari la velocità del vento, temperatura di 14 gradi per adesso, condizioni ideali per gareggiare. Un piccolo tifoso di Bruseghin. È presente qui sul traguardo anche il papà di Marzio Bruseghin, signor Corrado, che cercava un posto in tribuna, speriamo gliel'abbiano trovato. Bruseghin è l'unico uomo della Fassa Bortolo che vorrebbe un buon piazzamento in classifica generale. Per adesso sta andando benissimo, perché è settimo a 1.38 da Danilo Di Luca. È davanti a Gonciar, davanti a Scarponi, davanti a Simoni. Alessandro Fabretti a te, benvenuto. Sì, grazie. Ancora un buon pomeriggio da parte mia e da parte di Mario Lubrano, che guida la motocicletta. Allora avete parlato del ritiro di Daniele Nardello, mi sono rivolto a Valerio Piva, che è direttore sportivo della T-Mobile T, e allora mi ha specificato i motivi reali per cui Daniele Nardello si è ritirato. Sapete già che lui soffriva da tempo di problemi alla schiena e dopo la botta rimediata in quella dell'Aquila, praticamente non è più riuscito a pedalare bene nel modo giusto, nel verso giusto. Comunque come lui voleva. Quindi i dolori sono diventati lancinanti ed è stato costretto a ritiro all'altezza del 75esimo chilometro, quindi durante il fornimento. Niente da fare per Daniele Nardello, per lui termina qui il Giro d'Italia. Il gruppo già si è sgranato, ormai allungatissimo, tanti corridori hanno già perduto contatto dalle prime posizioni, comunque dai migliori, da coloro che lottano per la classifica generale come Kirsi Pudi, Biase, Polak, insomma i velocisti puri, Robby McEwan e la strada sale. L'asfalto è bellissimo, come bellissimo è anche il panorama con i suoi corsi d'acqua, con le sue sorgenti straordinarie, i suoi alberi e la sua natura. E poi in attesa naturalmente di arrivare nel territorio bellunese quando raggiungeremo le Dolomiti Bellunesi, le Dolomiti Stars con il suo Civetta, il suo Falcade, Araba, la Marmolada. Insomma ne vedremo delle belle, cercheremo anche noi di raccontarle. Comunque vi voglio dire anche che oltre alle formazioni di cui avete parlato, che naturalmente stanno cercando di far corsa dura come l'Ampreca, Fita, Ligigas, Bianchi, molto attivo ho visto soprattutto negli ultimi chilometri la ceramica panaria navigare, non per Cuglio Alberto Perez-Quapio che mi ha promesso farà corsa dura sabato o domenica, presumibilmente comunque ma anche per Emanuele Sella oppure per Luca Mazzanti e poi naturalmente la Discovery Channel che ha in Vladimir Bileca, uomo molto vicino a Paolo Savoldelli. Per il momento è tutto a voi. Grazie Alessandro. Fabretti ha citato Dolomiti Stars, non è una località, non lo troverete sui cartelli stradali. Dolomiti Stars è un consorzio turistico che abbraccia le Dolomiti Venete. È un'organizzazione costituita da gestori di impianti sciistici, di consorzi del turismo, albergatori, scuole di sci e fanno parte di Dolomiti Stars, Arabba, Marmolada e il comprensorio del Civetta è Falcade. È bene segnalare però che siamo in Veneto, in provincia di Belluno, quindi parliamo di Dolomiti Venete. Tu Davide hai fatto pure una gara di sci, ho saputo. Sia io che Silvio Martinello. È stata una gara vinta da Moreno Argentin e Silvio Martinello è andato particolarmente bene, se non vado errato. Silvio. Sì, grazie Davide, ricordi benissimo quell'episodio. Lui ironicamente dice che io sono andato particolarmente bene perché ho passato l'arrivo con la schiena, capisci? A metà gara sono caduto e non mi sono più rialzato, ma mi sto preparando già per la prossima edizione. Il dicembre prossimo sarò al top. Abbiamo visto l'arrivo, gli ultimi 200 metri sono pianeggianti, poi un breve scorcio della Marmolada. Dunque Argentin che ha battuto Cassani e Martinello nella gara di sci, ma qui nella Val di Zoldo si tornerà sino al 2008. C'è stato un accordo tra la Gazzetta dello Sport, RCS Organizzazioni e la Dolomiti Star, quindi tutti gli anni, non necessariamente a Zoldo Alto, ma magari a Allego o in altre località sempre di questa zona, il giro farà tappa. Ma o in partenza o in arrivo. Sono queste le frazioni che piacciono di più al pubblico, frazioni di montagna dove il ciclismo diventa lotta, diventa sofferenza, dove tanti atleti che non puntano la classifica generale probabilmente fanno più fatica dei campioni. E uno di questi è proprio Joachim, un altro è scherzato, basta guardare il viso, basta guardare la pedalata, la fatica, si alzano sui pedali, si siedono, cercano di cambiare rapporto. È fatica perché il passo Cereda è una salita abbastanza lunga e anche abbastanza impegnativa. Dietro però il gruppo sta tenendo un ritmo abbastanza elevato, grazie agli uomini della Lampre ed è per questo che tanti corridori si staccano. Vedete la difficoltà di tanti atleti, vedete anche adesso le ammiraglie che stanno parlando con corridori che si stanno staccando. Qui i velocisti, come ci ha riferito Alessandro Fabretti, hanno già fatto il famoso gruppetto, per loro l'importante è arrivare dentro il tempo massimo, fare sforzi inutili non porta nessun vantaggio, però gli uomini di Simoni e Cunego stanno tenendo un ritmo molto molto elevato, in modo che nessuno possa scattare. Già superato il tratto duro, di passo Cereda, un'ascesa che misura complessivamente 8 chilometri e 500 metri, pendenza massima 16%, pendenza media 7.6%, un dislivello di 650 metri in poco più di 8 chilometri. Due chilometri e mezzo intanto prima dello scolinamento per Benoit Joachim. Adesso la salita diventa un pochino più agevole e questo è il gran premio della montagna, passo Cereda. Adesso selezione da dietro Silvio, non ci sono scatti, nemmeno di attaccanti di giornata, gente fuori classifica, scalatori, mi viene in mente un Perez Quapio. Sì, soprattutto in casa ceramica panaria a navigare, direi che ci sono diversi atleti che potrebbero interpretare in modo discretamente attivo questo tipo di giornate, mentre vediamo appunto un cartello che ineggia Gilberto Simoni. Sì, selezione da dietro, nel senso che ci sono corridori come i velocisti che naturalmente non hanno nessun interesse a tenere duro in questo tipo di giornate e quindi corrono solo ed esclusivamente per tentare di arrivare in tempo massimo all'arrivo. Il gruppo ha recuperato due minuti a Benoit Joachim. Si è già dimezzato il vantaggio, basta vedere il ritmo, la cadenza di Joachim e vedere il ritmo invece del gruppo per capire che la velocità è notevolmente diversa. Siamo ormai a un chilometro e mezzo dal Gran Premio della Montagna. Il tentativo di Joachim è destinato a fallire nel giro di pochi chilometri e naturalmente anche quello di Scherselli. Complimenti ai nostri elicotteristi per averci fatto vedere una panoramica, oltre che cronometrica, soprattutto visiva. Joachim ha circa un chilometro di margine sul gruppo. Tifosi di Dario David Cioni, letta dal doppio passaporto ma potremmo dire italiano a tutti gli effetti, risiede vicino a Empoli, a Montelupo. Ci tengono gli abitanti di Montelupo, lui sì è nato, a dire la verità come tu hai detto, a Reading in Gran Bretagna ma è toscano al 100%. Anche se nella parlata c'è un po' di inglese, di cadenza britannica. Guido Trentin, corridore della Cofidis, si sta staccando, anche Moreni un po' in difficoltà con la maglia tricolore. Evidentemente Guido Trentin non riesce a ritrovare la condizione di tre anni fa. Io ricordo una magnifica vittoria di Guido Trentin a Sierra Nevada, alla Vuelta. Alessandro Fabretti a te. Sono proprio accanto a Guido Trentin che è stato appena raggiunto e superato dal corridore della Liberty, Securos Wurt, il corridore della Repubblica Ceca, Andrle. Come avete già detto voi, un pochino in difficoltà, Cristian Moreni, dietro di lui c'è il corridore della Selle Italia a Colombia, Raffaele Iliano. Un pochino più avanti c'è Thomas Decker che sta cercando di tenere il passo, il giovane della Rabobank dei Migliori ma fatica di qui a poco probabilmente si staccherà. E poi tre uomini della Saunière Duval che probabilmente di qui a poco rimarranno staccati, Pinotti, Rodriguez e Zaug. Ecco proprio in questo momento avviene il buco e allora il gruppo dei migliori si assottiglia ulteriormente. un pochino più indietro Mirko Celestino e più indietro tutti gli altri. Il gruppo adesso è forte di un'ottantina di unità. Ci sono tre della Lampre lì davanti. Sabaliauskas, Silvestre Smith e Francisco Vila, il basco. In quarta posizione abbiamo notato Stefano Garzella. Sì, i Liquigas sono lì attenti, pronti nelle prime posizioni anche se il traguardo è abbastanza lontano. Adesso ci sono questi ultimi tornanti di questa salita e poi il Gran Premio della Montagna. Joachim controlla il vantaggio. In questo momento può vedere il gruppo che è distante un paio di minuti, ma anche Di Luca l'abbiamo visto in sesta, settima posizione. Sta pedalando per il momento molto agile, abbastanza tranquillo per ora. due tornanti e troviamo Scarselli. Corridore toscano, 30 anni per lui, della Sella Italia-Colombia. Presto verrà raggiunto dal gruppo il quale ha già recuperato due minuti sui fuggitivi. Eccolo qui il plotone, ridotto ormai a una cinquantina di unità. E questo sta a significare il lavoro abbastanza importante della Lampre. Capita, attenzione, c'è uno scatto. È Rujano. Vero. Partito bene. Questo leggerino è fenomenale in salita. José Rujano, del Venezuela, classe 1982. Già in evidenza la tappa che arrivava a Pistoia sul Samomè. Era stato lui ad imprimere un forte ritmo. Notate con che velocità è riuscito a passare Scarselli. Rujano. Il primo attacco di giornata, vero. Ha fatto fatica a prendere, ad affrontare questa curva, questo tornante. È partito fortissimo. Lui vuole vincere in questo Giro d'Italia la classifica degli scalatori, la maglia verde. E vorrebbe anche imporsi in una tappa. Come tu hai detto, nel Samomè è andato fortissimo. Ma quest'anno, già dall'inizio della stagione, è riuscito ad imporsi. Pensate che ha vinto la Vuelta al Tacir in Venezuela. È arrivato secondo al Giro della Malesia, sempre a febbraio. Ed è arrivato terzo al Giro d'Oro a Comano Terme, nel Trentino. 50 kg vestito pesa questo ragazzo. José Rujano. Dunque il suo tentativo a poco più di 2 km dal Gran Premio della Montagna. Vuole conquistare punti per il Gran Premio della Montagna. Un saluto a tutti i cicloamatori. Ce ne sono tanti, anche quest'oggi. Soprattutto su queste strade. Benoit, Joachim. Ci sono circa 25 kg di differenza tra Joachim e Rujano. E sappiamo l'importanza del peso corporeo quando la strada comincia a salire. È fondamentale. È tutto. Basta vedere la differenza di ritmo, no? Tra Joachim sulla sinistra e Rujano, che adesso andiamo, eccolo qua, sulla destra. La velocità è notevolmente diversa. Anche perché Joachim è andato in fuga dopo 3 km, mentre Rujano è uscito pochi istanti fa. È ai 500 metri dallo scollinamento. Benoit, Joachim, Rujano segnalato a meno di un minuto, ma sta recuperando a vista d'occhio l'atleta del Venezuela. Non pericoloso in classifica generale. Rujano è quarantesimo a sei minuti da Danilo Di Luca. Quindi potrebbe anche disinteressare il suo scatto gli uomini di classifica. Infatti non hanno reagito minimamente. Hanno proseguito il Lamprecaffitta con il solito ritmo e stanno lasciando Rujano davanti. E come vedete Parra sta facendo una bella fatica, Baldato un po' meno. Perché? Perché Baldato si è staccato, mentre Parra sta cercando di tenere duro. Però comincia a fare molta fatica il corridore colombiano. Mentre Baldato ormai si è staccato e cerca di salire ad una frequenza, ad una cadenza di pulsazioni media. È già finito nella rete Fabio Baldato, nel gruppetto, come dicono anche in Francia. Silvio, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cosa significano questi termini. La rete dei velocisti o il gruppetto? Sì, il gruppetto viene formato appunto da quegli atleti, i velocisti su tutti, che in questo tipo di tappe, queste particolari giornate, particolarmente dure, non adatte naturalmente alle caratteristiche dei velocisti, si coalizzano, fanno gruppetto, tutto appunto per arrivare in tempo massimo all'arrivo. La rete cosa vuol dire? Ogni tanto ho qualche pescello. ...in questa rete, vuoi perché è una giornata storta, vuoi perché c'è qualcosa che non va, vuoi perché la forma non è quella che si sperava, allora in quel momento così si dice, ah ma sei caduto nella rete, insomma. Ecco, queste sono un po' le terminologie tecniche che vengono usate dai corridori in questo particolare tipo di gare, tipo di tappe particolarmente dure. Mentre vediamo che Rujano con molta facilità ha raggiunto Joaquin Benoit, che è riuscito a vincere il Gran Premio della Montagna, però poi è stato immediatamente raggiunto dal piccolo colombiano. Arriva Coldoghiel, anche lui punta alla classifica degli scalatori. Questo è un Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Vedete Coldoghiel transita in quinta posizione, gruppo forte di una cinquantina di unità. Ha calcolato male i tempi, si fa per dire Rujano, è arrivato proprio in scia di Benoit Joaquin, ma è stato il lussemburghese ad aggiudicarsi questo Gran Premio della Montagna. Dunque dalla provincia di Trento si è passati in provincia di Belluno. Adesso ci sarà una discesa di cinque chilometri verso Miss, quindi uno strappo a Gosaldo e poi un altro GPM di terza categoria verso Forcella a Urine. È una salita di tre chilometri, non è molto difficile, e in questo Gran Premio della Montagna Rujano potrebbe guadagnare altri punti ed avvicinare Coldoghiel nella classifica degli scalatori. Collegamento con Radio Corsa, i passaggi al Gran Premio della Montagna. Lei, professor Fagnani. Allora, i passaggi al Gran Premio della Montagna di Passo Cereda. Primo è transitato il 77 Joachim, quindi numero 43 Rujano, la coppia al comando. A 45 secondi il primo gruppo con in terza posizione il numero 59 Halgan, il concorrente della Credita Agricola. Dunque Halgan è riuscito a sopravvanzare Coldoghiel. Non sappiamo il motivo, evidentemente anche Halgan sarà interessato ai GPM. Ecco dalla grafica una conferma di quanto detto dal professor Fagnani. Impegnati gli uomini della Lampre, vedete schierati in testa al gruppo, ce ne sono quattro, c'è Vila, lo spagnolo Francisco Vila. Pensate che da ragazzino questo ragazzo ha cominciato con la palamano, poi si è dato al ciclismo, ma prima di fare ciclismo a tempo pieno ha praticato il triathlon a blanco, cioè una sorta di triathlon, quindi tre sport, ma a differenza della corsa a piedi c'era l'uscita di fondo. Ed è arrivato anche quarto ai campionati europei. Solamente da cinque anni pratica il ciclismo a tempo pieno. È un corridore basco, vive vicino a San Sebastian e quest'anno è nella squadra di Cunego e Simone. Erano tre Lampre di davanti e rimangono Vila, Goraz, Stangel, Silvester Schmidt. Stangel dovrebbe aver perso contatto. C'era Sabaliauskas, che lo si può vedere in seconda posizione, molto alto questo atleta, quasi 1,90. Marius Sabaliauskas, del 1978. Questa traiettoria non è stata delle migliori, ha stretto troppo presto la curva, non è riuscito ad avere una traiettoria ottima, mentre vedete i Lampre. Questa curva l'hanno fatto decisamente meglio. Sempre Vila in prima posizione, Sabaliauskas in seconda. E la maglia rosa che controlla, a differenza di Simone e Cunego, Garzelli, Di Luca e Cioni pedalavano proprio nell'avanguardia del gruppo. Alle spalle dei gregari Lampre caffitta. Non vogliono farsi sorprendere, preferiscono stare lì davanti a controllare la situazione. Ancora qualche chilometro di discesa molto tecnica, poi tra un po' la corsa ritornerà a salire. Eccolo qua Benoit Joaquin. Adesso sta cercando di riprendere vigore il suo tentativo, anche perché qui la strada è in discesa, ma proprio in questo tempo finisce il primo tratto. che adesso ritorna, uno strappetto. Ecco il passaggio. Lì c'era il cartello dal Trentino Alto Adige con la sbarra, quindi si è passati in Veneto, dalla provincia di Trento a quella di Belluno. Alessandro, abbiamo calcolato una cinquantina di unità per il gruppo principale. Beh sì, se non sono 50 sono 60, però giù di lì. Stiamo affrontando la discesa, una discesa molto tecnica, come avete già sostenuto voi, una discesa a carica di curve, ma anche con un asfalto piuttosto bello. I tratti in cui l'asfalto evidentemente non era al 100% è stato completamente rifatto, quindi i corridori non corrono alcun pericolo. Poi se calcoliamo il fatto che ci sia il sole, che non ci sia assolutamente vento, beh questo può dare la sensazione di come i corridori, almeno in questo momento, stiano affrontando questi chilometri in assoluta scioltezza. Vi voglio segnalare anche che nelle prime posizioni, nel gruppo dei migliori, c'è un corridore di cui forse abbiamo parlato poco, si tratta di Michele Scarponi, chiaro non è più un classifica generale, però potrebbe cercare di fare oggi una buona tappa. Poi infatti il corridore della Liberty Seguros-Wurt è il corridore di punta di questa formazione, e intanto vi voglio anche segnalare della stessa formazione un Giusefa Belocchi, che evidentemente continua a migliorare la sua condizione. Ricorderete, lo abbiamo già detto, i problemi al Tour de France due anni fa, ma adesso piano piano sta tornando se stesso, e fin da queste prime pedalate, di questi primi chilometri della prima tappa dolomitica, beh, mi sembra che se il buongiorno si vede dal mattino, beh, questo per Giusefa è davvero un buongiorno. Belocchi, più volte sul podio al Tour de France, con Lance Armstrong, sempre secondo d'accordo, però un grande regolarista, ci fa piacere sapere e constatare che sta ritrovando la gamba strada facendo, ci farebbe piacere anche vedere qualche scatto da parte degli Euskaltelli e Euskadi, due nomi su tutti, Zubeldia e Aitor González, ma loro, a differenza di Belocchi, non sembrano assolutamente intenzionati a lasciare il segno in questo Giro d'Italia. Saremmo felici di essere smentiti, però per adesso questo è quanto. Non si sono mai visti, abbiamo visto Aitor nella tappa di Frosiglione, un attacco a tre chilometri dall'arrivo, ma poca roba. Aimar Zubelda l'abbiamo visto solamente alle partenze. A dire la verità, quest'anno non ha ottenuto nessun risultato, nessun piazzamento, mai una volta nei primi 25. Ha in testa il Tour de France, ma mi piacerebbe vederlo in qualche tappa anche in questo Giro d'Italia. Nel frattempo Rujano è stato raggiunto dal gruppo, evidentemente per Rujano solamente era di interesse il passaggio al Gran Premio della Montagna, mantiene 20 secondi Benoit Aiochi, ma anche lui ormai credo che non ne possa più. È presto, gruppo compatto adesso, quindi ok. In discesa, 100 chilometri percorsi, meno di 50 al traguardo, gruppo compatto. E adesso sempre gli uomini della Lampre. Aspettiamoci fuochi d'artificio sul passo Duran. Prima era difficile ipotezzare qualche attacco. Eccolo qui, proprio il momento in cui il gruppo ritorna compatto, quel che resta del gruppo dal momento che erano 50-60. Si fanno una partita a carte questi tifosi. D'altronde non c'è il maxischermo. Siamo qui a Palafavera, Zoldo Alto, e si accontentano della radio, seguono via radio quel che succede al giro per poi assistere De Visu allo sprint, al traguardo. Sempre che sprint ci sia, perché potrebbe anche arrivare un corridore da solo oggi. È il primo rivo in salita, non sarebbe una sorpresa. In testa intanto vediamo Sabagliauskas. Questo ragazzo che risiede a Monticelli-Brusati, provincia di Brescia. Da dilettante è arrivato quarto al Giro d'Italia e quarto anche ai campionati del mondo. È passato professionista nel 2001. Perescuapio lo vedo proprio in coda. Ma anche lui. Anche lui alterna stagioni magiche. Quest'anno sembrava essere tornato il grande Quappio, il grande scalatore al Giro del Trentino. Invece adesso è lì in coda. Magari sta salvando la gamba per il passo Durant. Però ci ha detto Roberto Reverberi che sino a due giorni fa accusava grossi problemi, dolori di gambe. Gli hanno fatto delle analisi e sembra che sia tutto in posto. Però rimane questo dolore alle gambe a Perezcuapio e non si conosce l'origine. Al Trentino è riuscito ad imporsi finalmente quest'anno. Ha vinto la classifica finale. È arrivato terzo in una tappa. Ma lo scorso anno non aveva combinato proprio niente al Giro d'Italia. Un trentatresimo posto nella calcifica generale e un quinto posto nella tappa di Bormio. Lui che al Giro d'Italia di tappi ne ha vinte tre negli anni scorsi. Eh, ricordi sul Pordoi con Simoni che bella tappa fu. Fabretti. Sì, in effetti Julio Alberto Perezcuapio era nelle retrovie in ultima posizione ma non perché non ce la facesse anche perché fino a questo momento aveva pedrato molto bene ma perché Luca Mazzanti aveva forato. Siccome lui non punta questa tappa ma ripeto come mi ha detto lui punta le tappe di sabato o domenica allora almeno oggi sta facendo da Gregario. Mazzanti si è fermato ha cambiato la sua ruota posteriore e adesso si è lasciato sfilare Alberto Perezcuapio di cui a poco riporterà Mazzanti in gruppo e risalirà anche lui. Beh, è confortante quello che ci dici. Noi vorremmo rivedere un Perezcuapio competitivo perché in salita offriva dei gesti atletici di primissimo ordine. D'accordo solo al Giro d'Italia al Tour de France non si è mai visto Perezcuapio però le qualità in salita del messicano sono indiscutibili. Nel 2000 è stato uno tra i più bravi quando riuscì a vincere a San Giacomo ti ricordi con l'arrivo in salita provincia di Ascoli e riuscì a vincere nella tappa di Corvara questo nel 2002. E l'anno precedente lui con Simoni sul Pordoi d'accordo Simoni lo lasciò vincere però no erano in due era lì esatto erano Michentano e quando gli è saltata la catena a Montevergine incredibile anche l'arri fuga da solo certo è la prima volta che ci accorgemmo di questo messicano Perezcuapio di Tlaxcalà mi sembra che il paese dove è nato sia oltre 2000 metri d'altitudine a proposito di aria rarefatta di altura di altura Danilo Di Luca quest'anno è rimasto 40 giorni assieme ad altri compagni di squadra compreso Cioni a Toluca proprio in Messico proprio per una forma di ossigenazione naturale che gli è servita i mesi successivi allenamento fanno normalmente atleti che praticano la maratona ma anche i mezzofondisti è usanza fare proprio questi stagio di allenamento in altura il gran lavoro di Mario Sabagliauskas non è che stanno esagerando i lampre Silvio ma sai non è che stanno esagerando stanno tenendo un ritmo direi che non è che è troppo alto per chi si è staccato ma naturalmente non per i loro capitani direi che stanno facendo un ottimo lavoro sai sono qui sono venuti qui mentalizzati a fare questo tipo di lavoro sapevano benissimo che quando sarebbero arrivate le montagne sarebbe toccato a loro lo stanno interpretando al meglio soprattutto Sabagliauskas lo vediamo l'abbiamo visto da questa mattina nelle prime posizioni mi immagino che sarà difficile per loro rimanere in quella posizione sul passo Duran ma comunque fino ad ora ottimo il loro lavoro sicuramente sul Duran ci saranno fuochi d'artificio eh sì e adesso invece siamo sulla forcella Aurini tra un po' c'è il gran premio della montagna di terza categoria quindi già superato il paese di Miss quello di Gosaldo si salirà fino ai 1300 metri d'altitudine di forcella Aurini gpm di terza categoria poi ci sarà una lunga discesa dai 1299 metri del gran premio della montagna si scenderà verso Agordo a 608 metri una discesa di una quindicina di chilometri Mazzanti in coda al gruppo Fabretti sarà il capitano ma mi sembra che stia faticando non poco Luca Mazzanti o no? no non è proprio così nel senso che oltre ad aver forato la ruota posteriore adesso problemi alla sella quindi si è portato nuovamente alla sua miraglia il meccanico ha sistemato la sella e adesso sta cercando di rientrare in corsa è chiaro che lo sforzo profuso è stato notevole quindi probabilmente almeno in questo momento sta cercando di rifiatare per poi riportarsi nelle prime posizioni invece in ultima ruota vedo Paolo Bettini che ha cercato di pedalare accanto a Danilo Di Luca almeno finché ha potuto ma adesso lo vedo lì un pochino affaticato e chissà tra poco potremmo vederlo anche sfilato Luca Mazzanti a detta di reverberi è il corridore al momento più in forma della propria squadra la ceramica e panaria a navigare mentre l'uomo di classifica dovrebbe restare Emanuele Sella Mazzanti che causa la squalifica e il declassamento di Paolo Bettini a Frosinone ha avuto la soddisfazione anche se parziale di essere premiato come il vincitore di tappa sarebbe stato un terzo posto onesto per lui ma onesta è anche la vittoria perché comunque se i giudici hanno rilevato la scorrettezza di Bettini e Baden Cook è caduto lui si è ritrovato terzo e dopo sul podio è stato premiato quindi complimenti comunque amazzanti ricordi Traversoni al Tour quando vinse perché gli altri due si sono messi a litigare ah si arrivò staccato arrivarono Epner mi sembra poi era un boss camp erano questi due atleti mi sembra fecero pallate per 200 metri erano solo loro due Traversoni vinse la volata per il terzo posto a 40 secondi la giuria squalificarono i primi due e Traversoni si ritrovò vincitore di una tappa al Tour fu quell'anno magico in cui gli italiani vissero 7-8 tappe di fila proprio sulle strade di Francia continua l'azione di Marius Sabaliauskas corridore lituano qui adesso la salita è molto facile vedete anche la velocità è aumentata molto il gruppo è in fila indiana sono rientrati diversi corridori un chilometro e mezzo ancora di salita poi una lunga discesa verso Voltago Agordino e Agordo sempre per squapio in coda che ha chiamato l'ammiraglia Thomas Decker resiste si si era staccato come ci ha riferito Alessandro Favretti ma è riuscito a rientrare era con Moreni e lo vediamo sempre in coda al gruppo principale quattro uomini l'ampreca fitta lì davanti con la maglia rosa in ottava posizione maglia rosa indossata da Danilo Di Luca una stagione fantastica per l'abruzzese di Spoltore ecco lì Danilo Di Luca c'è Rujano che avanza per guadagnare i soliti punti al GPM e farà la volata con Al Gand il corridore della Credit Agricol eccolo lì che Rujano sta controllando eccolo lì volata Rujano Al Gand e vai vediamo non è una volata adatta al corridore Venezolano però può darsi che Al Gand sia contenti vedremo ma l'altra il campione della montagna è ancora abbastanza lontano Rujano è partito anche questa volta un po' troppo presto mancano mi sembra 500 metri Al Gand fino a stamani aveva 4 punti nella graduatoria dei Gran Premi della montagna contro i 21 punti di Coldoghiel i 16 di Rujano beh qui dai una salitella proprio 3-4% si è praticamente nel finale è praticamente pianura ecco che parte Al Gand il Rujano fa secondo anche qui eh potrebbero anche proseguire adesso in discesa il gruppo lascia fare e adesso comincia una lunghissima discesa e vedete che Basso si sta portando davanti perché la discesa è abbastanza insidiosa Rujano dovrebbe rialzarsi 13 km Davide sino ad Agorto si Al Gand invece vorrebbe proseguire mentre vedete che Rujano sta sciogliendo un po' la muscolatura non ha guadagnato granché perché questo era un gran primo della montagna di terza categoria ha guadagnato due punti condizioni dell'asfalto almeno dalle immagini molto buone sembra rifatto da poco sì sì appena rifatto e dunque tutto sul duran Silvio come era come era prevedibile anche se io pensavo che qualcuno fuori classifica sul Cereda tentasse un'azione da lontano ma evidentemente il ritmo della lampre così lento non è stato esatto Auro evidentemente il ritmo imposto da Sabagliauskas e i suoi compagni appunto che avevano il compito di scandire il ritmo non era poi così basso anzi andava bene a tutti perlomeno a chi aveva questa intenzione se mai qualcuno l'avesse avuta adesso è chiaro che con l'avvicinarsi della salita più importante della giornata vedremo intanto un gruppo sempre più scremato e auguriamoci di cominciare a vedere anche i protagonisti più attesi all'attacco intanto Rujano con i punti guadagnati ha raggiunto in cima alla classifica di GPM Koldo Gill letta di Pamplona vincitore della tappa Pistoia Underlay vediamo con la maglia blu della Liberty Seguros ottimo velocista scusate non velocista passista ha vinto anche delle cronometro Underlay tiene abbastanza bene anche in montagna chiede l'intervento dell'ammiraglia Ruben Elvira Lobato in evidenza al giro della Svizzera Romanda e qui siamo su Francesco Bellotti della Credit Agricola immagini un po' disturbate ma è normale la vegetazione questi boschi fanno da ostacolo alla trasmissione via satellite la vittoria la vittoria più importante di Algan è stata una tappa al Tour de France nel 2002 quando riuscì a vincere la tappa di Po pensate che quella tappa fu percorsa ad una media di 49 orari riuscì a battere Pinot e Ogredi quella è stata fino ad oggi la sua vittoria più importante Radio Corsa il passaggio a Forcella Aurine della montagna di terza categoria Forcella Aurine dopo 105 chilometri della tappa primo è transitato il numero 59 Algan Patrice Algan della Credita Agricola in seconda posizione il numero 43 Rujano Giosea Rujano della Sella Italia a Colombia il gruppo è transitato a 12 secondi in terza posizione si è classificato Sabagliauskas il numero 6 di dorsale della Lampre Caffita ecco il paese Agordino Voltago Agordino poi si arriverà invece ad Agordo il comune principale di questa zona attorno al quale ci sono le palle di San Lucano il Monte Agnero la valle del Cordevole il paese degli occhialai Agordo primo piano di Patrice Algan corridore francese vedete che il vantaggio non è molto elevato 16 secondi sempre del giro Pietro si era molto convinto delle sue possibilità ma evidentemente ha sbagliato qualcosa perché è chiaro non è mai stato un grosso specialista del cronometro ma effettivamente insomma cronometro a Firenze ha perso moltissimo ora è chiaro che in queste giornate avrà modo anche lui magari di ritagliarsi un momento di gloria per far capire che c'è anche lui in questo giro ma è evidente che per la classifica generale credo che ormai abbia perso ogni più rosa speranza di poter fare di poter ottenere un buon piazzamento ma nei primi dieci potrebbe anche arrivare ma la sua ambizione era quella di confermare il podio ottenuto tre anni fa al momento è trentunesimo Pietro Cauchioli sappiamo essere un lottatore ma devi essere assistito per forza da una buona condizione fisica perché altrimenti anche se hai tanta volontà tanto carattere alla fine in ritardo ci arrivi lo stesso ha passato un brutto weekend quasi due minuti nella tappa di gioia da Koldogil e quattro minuti a cronometro da Zabrinski troppo e speriamo che abbia ritrovato un po' di energie un po' di brillantezza anche perché lui essendo un corridore generoso se sta bene qualche attacco lo farà tanta sfortuna nell'ultime due stagioni per Pietro Cauchioli incidenti fratture operazioni ernia discale quest'anno sembrava tutto a posto anzi io l'ho intervistato a Reggio Calabria era convinto proprio di fare un grande giro d'Italia anche per sdebitarsi nei confronti dell'accredito agricola gli aveva dato fiducia insegnendolo dei dei gradi capitano unico a tutti gli effetti l'accredito agricola puntava su De Lui per la classifica e su Kirsi Poo per le volate Kirsi Poo è riuscito a fare qualche piazzamento e adesso aspettiamo qualche segnale da parte di Pietro Caucchioli corridore veronese di Bovolone Alessandro a te si Auro beh direi una discesa strepitosa molto veloce tra l'altro abbiamo raggiunto punte di 90 km orari per fortuna anche qui l'asfalto è perfetto quindi non ci sono pericoli per i corridori volevo segnalarvi davanti a me un panorama incredibile di una bellezza di una bellezza unica con il civetta con il perno intanto ancora un problema per Luca Mazzanti che si ferma nuovamente e questa volta il problema non è né alla ruota posteriore né alla sella ma è alla ruota anteriore ma che capitano tutte a lui oggi oggi tutte a lui e solo a lui perché è l'unico a forare dicevo di questa di questa bellezza che mi capita davanti agli occhi con il massiccio del civetta la parete mogliazza la parete famosa per le arrampicate direi un panorama davvero davvero unico al mondo adesso vediamo intanto come Luca Mazzanti riuscirà a rientrare in gruppo e tra quanto riuscirà a tornare in gruppo e soprattutto chi lo aspetterà per riportarlo in gruppo nel giro nel frattempo ancora non si vede arrivano due corritori in discesa ma come avete detto voi no come avete detto voi occhio ecco un occhio al nostro Mario Rubrano che fa passare giustamente Cedric Vassar corridore della Confidis che sta rientrando in questo momento il gruppo dicevo come avete detto voi erano rientrati corridori come Cristian Moreni però per il resto in discesa in pratica non è rientrato nessun altro ad eccezione di Alexander Kolobnev il corridore lusso della Rabobank per il resto mi volto ancora e vedo il solo Luca Mazzanti questa volta sì solo che cerca di rientrare ancora curve contro curve prima a sinistra poi a destra è il gruppo che procede a 70 km orari a voi grazie Alessandro naturalmente priorità alla sicurezza mi raccomando sia te che Mario Lubrano non rischiate nei tratti in discesa Alpinismo 25 secondi il vantaggio di Patrice Algan cosa succederà sul Duran Davide? succederà che gli uomini dalla lampra scatteranno non sappiamo se sarà prima Simoni o prima Kunigo io penso che il primo a scattare dalla lampra sia Gilberto Simoni però posso anche sbagliarmi potrebbe anche esserci uno scatto di Ruiano che abbiamo visto molto brillante nelle salite precedenti ma Ruiano non è un corridore che impenserisce gli uomini che lottano per la maglia rosa staremo a vedere come reagirà a basso che dovrebbe correre sulla difensiva quest'oggi ma soprattutto cosa riusciranno a fare i Liquigas bianchi e Savoldelli che fino a questa mattina è stato perfetto se non nella tappa di Frosinone dove causa una caduta non sua ha perso 43 secondi sarebbe maglia rosa senza quell'inconveniente ecco è stato uno dei pochi corridori che è andato fortissimo sul Samonman nella tappa di Pistoia e molto bene anche nella cronometro quella di Firenze dove si è classificato terzo parlando con Silvio Martinello quando ancora non eravamo in telecronaca ci ha riferito che un Savoldelli in discesa dal Duram potrebbe guadagnare circa un minuto sui diretti avversari Silvio ma Savoldelli conosciamo e lo stesso me l'ha confermato Maurizio Fondriest conosciamo non ti sento più ecco adesso si ecco conosciamo di Savoldelli le sue straordinarie qualità di discesista credo che se decidesse di di attaccare nella discesa del Duran intanto darebbe grande spettacolo e potrebbe senza dubbio arrivare in fondo alla discesa e quindi ai piedi della salita finale che porta qui a Palafavera con un discreto margine di vantaggio che poi si dovrebbe saper amministrare e gestire naturalmente in questi 8 chilometri finali però Savoldelli direi che potrebbe essere una delle alternative che c'è sul tavolo una delle possibilità che c'è sul tavolo per cercare di capire cosa potrà accadere nel finale di questa tappa la discesa è particolarmente invitante per i corridori che la sanno interpretare al meglio questo tipo di specialità e Savoldelli è senza dubbio tra uno di questi sicuramente andrà all'attacco se sarà con i primi e cercherà di recuperare se si farà se si sarà staccato nella salita della Duran io penso bisogna discesa potrebbe rischiare il grosso basso che notoriamente non è un drago in discesa poi ci sarà tempo per recuperare verso Zoldo Alto ci saranno altri 7 chilometri con pendenze dal 6 all'11 per cento è abbastanza morbida la salita finale molto più duro il Duran scusate il gioco di parole ma è così senza ombra di dubbio quest'ultima salita è abbastanza pedalabile ok la corsa è stata abbastanza tirata anche sul Cereda il gruppo non ha sonnecchiato molto e la fatica si farà sentire ma se differenze ci saranno saranno soprattutto sul Duran a Gordo ci siamo ormai 30 chilometri al traguardo il gruppo è tirato da Ivanov il corridore della Domina Vacanze e poi sempre i Lampre Caffita pronti per spianare un eventuale attacco di Gilberto Simonio di Damiano Cunego a controllare la maglia rosa Danilo Di Luca crede molto nelle proprie possibilità addirittura ha dichiarato Danilo che vorrebbe vincere a zoldo alto importante sarebbe per lui non staccarsi poi in volata sappiamo che potrebbe battere chi dal momento che sarà un gruppo inevitabilmente scremato sarà un gruppo molto molto ridotto scrematissimo adesso c'è questo tratto in pianura e poi comincerà questa salita misura 13 km la pendenza media è del 7,7% la pendenza massima del 14 solamente i primi 5 km sono abbastanza facili con delle pendenze che vanno dal 6 al 7% poi poi sempre oltre al 10% le pendenze vedete Baldato che si è staccato è in un tratto in discesa a 80 100 pedalate mentre Parra che dovrebbe far parte del gruppo Maglia Rosa nonostante siamo in un tratto abbastanza semplice ha le pulsazioni abbastanza elevate ben 6 uomini lampre 4 gregari più Cunego e Gilberto Simoni ha una voglia amata Simoni di recuperare nei confronti di Ivan Basso vuole tornare ad alzare le braccia al giro Gilberto Gilberto l'ultima volta fu nel 2003 una vittoria amara perché la sera o era il 2002 si l'anno scorso a Corno alle scale d'accordo vinse però io volevo rammentare quando vinse su Francesco Casagrande nel 2002 che poi alla sera fu invitato a lasciare il Giro d'Italia per una positività ai metaboliti della cocaina poi venne assolto da qualsiasi addebito Gilberto Simoni era la tappa di Campitello Matese esatto poi il suo tentativo con Garzelli alla Presolana l'anno scorso la lotta all'interno della squadra Saeco perché lotta fu voleva far saltare il banco Gilberto ma Simoni trovò sì un grande compagno d'avventura come Garzelli ma dietro c'era Cunego a controllare con un grandissimo gregario come Eddie Mazzoleni Eddie Mazzoleni che quest'anno manca un po' questa squadra ha avuto dei problemi ad un ginocchio non ha praticamente mai corso Eddie un grosso in bocca al lupo ha ricominciato ad allenarsi ma attenzione perché è cominciato il passo dura 13 chilometri alla vetta siamo all'inizio sono tanti tanti infiniti 13 chilometri in salita Alessandro proprio qui il cartello GPM fra 13 chilometri comincia la salita per il momento è una salita molto lieve però nel tratto in discesa subito dopo l'ultimo collegamento che ho effettuato sono rientrati diversi corridori corridori che proprio scalatori non sono e allora potrebbero essere importanti per coloro che invece puntano alla classifica generale tra gli altri è rientrato anche Giovanni Lombardi della CSC che probabilmente di qui a poco vedremo in ammiraglia insieme con Bjarne Ries grande confusione perché adesso appunto molti corridori cercano di chiedere cercano di avere il supporto dei propri direttori sportivi per affrontare questi 13 chilometri intanto abbiamo superato l'abitato di Agordo che mi hanno detto questa mattina nei tempi passati famoso anche per le miniere di ferro a voi si così come la valle di Zoldo non ho capito bene Alessandro ma Lombardi in ammiraglia cioè si ritira Lombardi? no 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 hai detto che salirà sulla miraglia di solito come direttore sportivo forse se ho detto salirà ho sbagliato ho detto che si può volevo intendere che si porterà la miraglia probabilmente per prendere Borracce che è il suo capitano Lombardi può darsi che abbia capito male ma mi sembrava proprio fosse riferito a un eventuale ritiro non c'era dato a sapere che stesse male Giovanni Lombardi anzi sarà prezioso di qui in avanti per Ivan Basso nei primi 4 chilometri non dovrebbe succedere granché perché come vi dicevo le pendenze non sono impossibili dovrebbe scattare il primo corridore intorno al quinto o sesto chilometro quando le pendenze saranno molto molto elevate Patrice Algan allungato subito dopo il gran premio della montagna di Forcella Aurine per lui 30 secondi anche 40 ma insomma tentativo sterile per il francese testa della corsa se possibile andrei sul gruppo per vedere ecco il gruppo forte di una sessantina anche 70 concorrenti sì questa è la coda con il campione tricolore Moreni ma ritorniamo su Patrice Algan che per il momento sta tenendo un buon ritmo anche perché le pendenze non sono elevatissime adesso si può salire i 22 23 all'ora vedete che ha cambiato rapporto ha messo un pignone un pochino più agile 39 21 già con la catena c'è ancora uno dislivello di 995 metri pendenza media 7.7% questi corridori in coda sono destinati a staccarsi ormai ognuno è nella sua posizione nel senso che vedete questi corridori in coda non lottano neanche anche perché non ce la fanno più c'è anche Zabel che sta tenendo duro e con lui Christian Werner sempre della T-Mobile rammentiamo che lo squadrone tedesco qui al Giro d'Italia ha portato una squadra non competitiva per la classifica generale l'unico che potrebbe fare qualcosa è Mattias Kessler ma l'abbiamo visto in difficoltà in più occasioni è 28esimo in graduatoria Kessler ha preso 4 minuti e mezzo a cronometro adesso è arrivato anche Petrov a tirare bravo questo ragazzo russo due volte campione del mondo tra i dilettanti a Pluè vinse sia la prova in linea che quella a cronometro si tra i dilettanti ha corso per la San Pellegrino Bottoli Artoni beh la conosco bene quella squadra Mantovana anche Moreni si gareggiava nella San Pellegrino diretta da secondo Volpi che è stato un discreto professionista molto più bravo come direttore sportivo e adesso staremo a vedere cosa succede in questo passo Duran temuto da tutti già il gruppo si sta allungando 11 km alla vetta Patrice Algan 30 secondi non di più il suo vantaggio adesso vedremo il tempo reale quanto ha il Transalpino c'è Selle in quinta posizione c'è Ivan Basso in ottava la maglia rosa si è leggermente defilata 19 secondi quindi perde ancora Patrice Algamma lo sapevamo era ovvio che fosse così sono ben quattro gli atleti Panaria oltre a Mazzanti c'è Sella qui c'è La Verde per Esquapio staremo a vedere cosa riuscirà a fare Danilo Di Luca per il momento è lì davanti sta andando via molto agile è una salita che quando sta bene non non si stacca però potrebbe già cominciare fin da oggi ad accusare un po' la fatica di questa lunghissima primavera lunghissima per lui perché è dall'inizio del marzo che sta andando come un treno in difficoltà Pinotti inevitabilmente adesso ci saranno delle fratture Alessandro raccontaci tutto beh sì si è staccato nuovamente non si è ritirato mi raccomando si è staccato Giovanni Lombardi si è staccato anche un altro corridore della CSC che invece poteva essere importante in salita come Peter Luttenberger e poi si è staccato Werner in difficoltà come avete già detto Pinotti il corridore della Sonia è il gruppo che intraprendere le prime rampe di questa salita hanno già percorso tre chilometri dei tredici previsti c'è anche Pozzovivo no? il Lucano come no c'è anche Domenico Pozzovivo lì in mezzo al gruppo si si e Parra comincia a essere a tutta o quasi mentre Baldato dal momento che è ancora nel tratto pianeggiante sta andando via abbastanza tranquillo ricordiamo che Baldato fa parte del gruppetto dei velocisti e non fa più parte di questo gruppetto qui Saludos a todos José Rujano suoi tifosi qui al Zoldo Alto ecco adesso comincia a farsi un po' più impegnativa la salita e di chilometri ne mancano ancora tanti stanno salendo da sette minuti e trenta secondi circa Schmitz e Stangel della Lampre hanno lavorato per oltre cinquanta chilometri adesso perdono contatto anche Cristian Moreni non ce la fa più Ruslan Ivanov Petrov anche lui ha finito ha esaurito il proprio lavoro e adesso si stacca vedete sta tenendo bene Bruseghin adesso si formeranno tanti gruppetti Bruseghin che potrebbe fare il Cioni del 2004 Cioni che l'anno scorso il tuo quarto Cioni che era compagno di squadra di Petacchi abbiamo visto lavorare molto meno quest'anno Bruseghin attenzione perché c'è il forcing di Francisco Vila corridore basco della Lampre sparpaglio terribile terzo chilometro di salita tra un paio di chilometri potrebbe esserci tra un chilometro un chilometro e mezzo potrebbe esserci il primo a lungo ed è Tonti si è spostato Vila ruota di Tonti Emanuele Sella il Vicentino poi Schleck e Ivan Basso in difficoltà Paolo Bettini può partire la sigla spettatori Gilberto Simoni il tentativo dello scalatore di Palù di Giovo quarto chilometro di salita ecco lo scatto di Gilberto Simoni tanto atteso e adesso si sta realizzando eh si ce l'aspettavamo tutti uno scatto di Gilberto Simoni e lo scatto c'è stato vediamo adesso la reazione degli altri Cunego non sembra in grado di rispondere per adesso eccolo lì con il dorsale uno Damiano Cunego mentre questa è la testa della corsa ripreso Patrice Alga c'è Ivan Basso prontamente affiancato a Gilberto Simoni sta correndo da padrone per adesso Ivan Basso notate sulla destra Savoldelli al centro basso e sulla sinistra Danilo Di Luca con Gilberto Simoni che evidentemente vuole capire la posizione di Damiano Cunego eh sì difatti vedete che Cunego si è staccato Simoni si è rialzato ha continuato a guardare indietro eh sì Cunego in difficoltà ed è per questo che Simoni per il momento si è rialzato e nessuno sta reagendo prima notizia che ha del clamoroso quarto chilometro di salita non è normale che Cunego sia lì evidentemente la frustata di Gilberto Simoni ha fatto male Damiano Cunego che è a 100 metri dal gruppo degli altri uomini di classifica Silvio Martinello sì non è normale che Damiano Cunego sia lì dietro anche perché non dimentichiamo che tra Simoni e lui ci sono altri 20 corridori quindi c'è eventualmente evidentemente qualcosa che non va in Damiano Cunego che al primo appuntamento importante con la salita dimostra qualche difficoltà vedete che Simoni continua a guardarsi indietro ha parlato anche con il direttore sportivo eccolo qua Damiano Cunego che non è riuscito a reagire allo scatto adesso al suo fianco Andrea Tonti c'è Schleck Gregario di Ivan Basso c'è Parra Alessandro a te beh sì io sono proprio accanto a Damiano Cunego vi voglio dire che è una pedalata proprio pesante è dura è macchinosa non mi sembra assolutamente di vedere il Damiano Cunego dello scorso anno anzi è in difficoltà in grandi difficoltà per fortuna ha un gregario come Andrea Tonti accanto ma è in grandi difficoltà e comunque nello scatto di Gilberto Simoni hanno perduto contatto anche corridori come Bertagnolli Andrea Noè che può essere fondamentale per Cioni Garzelli Luca Mazzanti che abbiamo già detto e visto prima in difficoltà c'è Tiralongo che sembra stia procedendo con più agilità rispetto a Damiano Cunego ma pensate adesso che problema sarà per il Veronese coprire questi 8 chilometri di salita se ha perso contatto all'inizio sarà un'odissea per lui sarà un'odissea sarà una via crucis perché non si è staccato da 2 o 3 corridori ma si è staccato da 20 25 corridori e il Gran Premio della montagna è ancora tanto lontano e quindi penso proprio che oggi per Cunego sarà una giornata lunga non ce la fa vedete piantato Alessandro cerca di risalire perché abbiamo visto i tre Liquigas ancora tutti assieme ma non abbiamo visto Cioni dunque Garzelli è lì Di Luca è stato bravissimo a rispondere c'è Veghelius come abbiamo visto con la maglia verde della Liquigas questa è la testa della corsa con Danilo Di Luca che ha risposto prontamente vedete c'è anche Stefano Garzelli che mi sembra stia procedendo in maniera affannosa eh sì anche Garzelli non mi sembra che stia attraversando un buon momento eccolo lì Garzelli probabilmente era nel gruppo con Cunego sì ma proprio non riusciva ad avere una pedalata sciolta anzi mi sembrava molto molto in difficoltà anche Stefano Garzelli non ce la fa probabilmente la caduta dell'altro giorno a Pistoia si fa ancora sentire con Garzelli è rimasto Veghelius e con Cunego Andrea Tonti mentre vediamo là davanti un brillante Michele Scarponi questo è il cronometro partito per verificare a 8 km dalla vette il ritardo di Damiano Cunego è già di 17 secondi eh Alessandro a te proprio così Charlie Veghelius ha provato in qualche modo ad aiutare Stefano Garzelli ma Stefano non ce la fa è lì davanti Veghelius che prova a pilotarlo in pratica si sono formati due treni di due corridori ciascuno uno della Lampa Caffita con Tonti e dietro Damiano Cunego e l'altro dell'Aliquigas Bianchi con Veghelius e Garzelli dietro con loro ci sono anche altri corridori Paolo Tiralongo della Panaria a navigare poi c'è del team CSC CESLEC e quindi sta rientrando sta cercando di rientrare l'Aiseca dell'Eoscaltel Eoscadi e poi c'è con il dorsale 137 Unai Osa delle Isole Baleari Alessandro ti chiederai per cortesia adesso di avanzare così ci dai l'esatta composizione del gruppo principale lì davanti ci sono sempre Gilberto Simoni Scarponi Savoldelli e di Luca pubblicità per noi Torniamo in diretta gentili telespettatori adesso al comando si è portato Ivan Basso e sembra che il corridore Varesino voglia ulteriormente scremare il gruppo un problema per Sella che è caduto ma è riuscito a ripartire immediatamente a te Fabretti ho provato un pochino a fare la composizione del gruppo dei migliori prova a farla allora con il numero 2 della Lamprega Fita Gilberto Simoni con il numero 31 della Cofidis a Tienza con il 43 della Sella Italia Colombia a Rucano con il Credit Agricol con il 52 un bel ritrovato a Pietro Cocchioli con il 59 Algan con il 61 della Davita Mollotto Ardila con il 67 Vanuffel con il 71 della Discovery Channel Savoldelli con l'81 della Domina Vacanze Sergei Gonciar con il 99 dello Scaltello Scadi Sanchez con il 135 delle Isole Baleari Carpez con il 142 il 148 da Liberty Varanowski e Scarponi e la Liquigas Bianchi ci sono Di Luca e Cioni del CSC Basso e della T-Mobile Kesser potrebbe essermi sfuggito qualcuno ma credo che questi siano e si sta ulteriormente riducendo il gruppo era di 17 componenti vedete sta rientrando Kessler ho avuto l'impressione che anche Cioni è riuscito a rientrare Simoni stava parlando via radio con Martinelli probabilmente non sa che fare Simoni dopo che gli hanno comunicato che Cunigo è in difficoltà no non sa più che fare non sa se partire di nuovo non sa se aspettare però vedete che adesso c'è un nuovo attacco davanti Pietro Cacchioli a te Alessandro mentre Di Luca tiene benissimo la ruota di Ivan Basso proprio così è stato Pietro Cacchioli il primo a rompere gli indugi mentre Danilo Di Luca ha corso per diversi metri accanto a Ivan Basso dopo l'attacco di Pietro Cacchioli ha risposto immediatamente Ivan Basso al quale ha risposto altrettanto immediatamente Danilo Di Luca che sembra in una condizione ancora straordinaria Silvio Martinello il miglior Di Luca in assoluto si sta correndo con una disinvoltura disarmante un rapporto agile sta lì facilmente si affianca a Basso si affianca a Simoni e tra l'altro da qualche immagine abbiamo potuto vederlo anche da vicino in viso ed è anche molto tranquillo e rilassato sembra non accusare le dure pendenze del passo Duran anche adesso a ruota di Ivan Basso lo vedete molto tranquillo con un rapporto molto agile e oggi sarà un cliente difficile per tutti ecco andiamo a scoprire tutti con Ivan Basso alla sua ruota Danilo Di Luca poi c'è sempre Rujano il venezuelano della Sella Italia a te Alessandro invece di Pietro Cacchioli ha fatto male sia a Emanuele Sella che a Dario David Cioni in difficoltà anche a Serghei Goncia vedete che Cioni era rientrato ma il suo rientro è durato poche centinaia di metri evidentemente l'ulteriore accelerazione di Basso ha fatto sì che sia Cioni che Cacchioli perdessero contatto no Cacchioli ancora la Sella ma Sella poverino è caduto è caduto e quindi è stato costretto ad un inseguimento supplementare Cioni era riuscito a rientrare solamente perché davanti avevano rallentato adesso Basso sta tenendo alto il ritmo beh non è nuovo a queste imprese Danilo Di Luca quando sta bene non soffre in queste salite se vi ricordate nel 2000 nella tappa della Betone San Pellegrininali fu l'ultimo a cedere all'attacco di Francesco Casagrande quindi un Di Luca che sta tenendo benissimo Damiano Cunego in difficoltà Sierghiei Gonciar era nel gruppetto con Dario David Cioni Basso altra frustata del Baresino Ivan Basso poi Danilo Di Luca e Savoldelli i primi tre della classifica generale quando ormai siamo a metà salita del Duran questa andatura fanno male perché adesso Basso sta facendo un bel forcing sta resistendo molto bene Danilo Di Luca con un rapporto molto agile anche Paolo Salvoldelli ma rivediamo in replay questo allungo di Ivan Basso la tenacia la caparbietà di Danilo Di Luca lui che non è uno scalatore puro che si era specializzato come atleta da classiche ma finché gli regge questa condizione può competere su qualsiasi terreno è un campione Danilo Di Luca lo aveva dimostrato sin da ragazzino adesso lo sta confermando grande anche Savoldelli oggi con Scarponi a te Alessandro si intanto stanno perdendo contatto i due corridori della Davidamon l'otto e sta perdendo contatto anche con il dorsale 59 Algan della Credit Agricol mentre è cercato di riprendere il gruppetto dei migliori José Ruvano è stato bellissimo l'attacco di Ivan Basso e soprattutto la sfida di Danilo Di Luca correvano uno accanto all'alto poi improvvisamente Danilo lo ha guardato negli occhi si è spostato da l'altra parte riparte Basso riprova Ivan Basso Cunego è segnalato a 50 secondi sono scatti un po' telefonati ma con questa ripetitività fanno molto male eh sì saranno anche telefonati ma con queste pendenze fanno male molto male sono cambi di ritmo vedete che il gruppo si allunga Simoni ormai è libero da ogni impegno e il suo il suo lavoro adesso è quello di stare con Ivan Basso che per il momento sembra il più forte ha perso leggermente la ruota di Ivan Basso Danilo Di Luca eccolo lì a ruota di Savoldelli mi sembra un momento critico questo per Danilo Di Luca se ci saranno altri scatti l'abruzzese verosimilmente perderà contatto Simoni invece sta tenendo benissimo la ruota Basso e con loro c'è il leggero Atienza letta della Cofidis un drappello di cinque uomini Alessandro sì e dopo questi due scatti si sono staccati sia Pietro Cocchioli che Michele Scarponi in difficoltà anche José Rujano i due Scarponi e Cocchioli stanno cercando di rientrare mandando del proprio passo mentre lì davanti si fa veramente sul serio beh Ivan Basso sta correndo da padrone beh sinceramente non ci aspettavamo una Ivan Basso all'attacco ma dal momento che si è accorto della difficoltà di Cunego e anche Savoldelli adesso sta patendo su queste pendenze però riesce per il momento a stare lì in scia perde due metri Savoldelli sembra aver passato il momento brutto Danilo Di Luca che si è riportato a ruota di Ivan Basso affiancando Gilberto Simoni anche Atienza con Rujano Atleta del Venezuela quanto manca la vetta Alessandro allora se i miei calcoli sono giusti abbiamo cominciato a 19 siamo al 28 quindi abbiamo percorso 9 chilometri potrebbero mancare 4 chilometri esatto 4 chilometri al Gran Premio della Montagna qui siamo su Michele Scarponi e Caucchioli ancora 2 chilometri durissimi poi gli ultimi due sono molto più agevoli Aia anche Atienza adesso non ce la fa più Savoldelli sta reagendo benissimo al forcing di Ivan Basso non è che non chieda cambi Ivan vuol fare la differenza e nessuno è in grado di stargli davanti 4 adesso Basso Simoni di Luca Savoldelli sapevamo che questa salita poteva fare le differenze e le differenze ci sono state vedete che adesso Rujano ha riuscito a riportarsi sotto che grinta per José Rujano ci sono suoi tifosi qui a Zoldo Alto 15 secondi per Pietro Cauchioli forse ha chiesto un po' troppo alle proprie gambe prima della metà della salita era stato lui per scattare favorendo così la progressione di Ivan Basso Cunego segnalato a un minuto adesso non c'è la passa Boldelli deve ancora tenere duro ancora per un chilometro si riesce a superare questo tratto questo difficile tratto potrebbe potrebbe recuperare anche se dalla sua poi ci sarà la discesa dove avrà la possibilità eventualmente di rientrare sui primi in effetti dall'undicesimo al tredicesimo chilometro le pendenze scemano sono dal 4 al 6 per cento c'è Danilo Di Luca non ce la fa che non sembra in grado di rispondere Alessandro Fabretti beh sì adesso invece è un pochino in difficoltà Danilo e ha perduto qualche metro nei confronti di Ivan Basso e Danilo e Ivan Basso e Gilberto Simoni allora la situazione vede due uomini al comando Ivan Basso e Gilberto Simoni a una decina quindicina di metri Danilo Di Luca che capo chilo cerca di superare la vetta in denne poi un'altra decina di metri ci sono José Rucano e Paolo Savoldelli quindi mi volto e c'è a Tienza lo spagnolo della Gofidis ancora più indietro c'è Pietro Caucchioli insieme con Ardila e quindi all'altri 10 metri c'è Michele Scarponi quindi come avete detto voi Damiano Cuniga un minuto le sentenze del passo Duran addirittura un primo e 54 per Damiano Cunigo il ritardo di Cunigo 1 e 54 un minuto il ritardo di Dario David Cioni sono lì a una ventina di secondi Caucchioli e Scarponi a 50 secondi Bruseghin Sella e Garate non abbiamo notizie di Stefano Garzelli ve le daremo allo scollinamento 2-0-9 addirittura Garzelli addirittura Garzelli è dietro a Damiano Cunigo in grande crisi probabilmente in seguito alla caduta ma siamo ancora con Savoldelli con Ruiano ancora un chilometro di salita dura poi diventa più facile Alessandro a te abbiamo raggiunto il cartello dei 20 chilometri all'arrivo e in questo momento il cartello dei 3 chilometri a Gran Premio della Montagna un rilevamento cronometrico Gilberto Simoni e Ivan Basso nei confronti di Danilo Di Luca siamo a oltre 12 secondi precisamente siamo a 14 secondi in questo momento Danilo Di Luca che sta per essere raggiunto da Paolo Savoldelli e da José Rucano considerato che gli ultimi due chilometri non sono durissimi basterebbe sia per Savoldelli che per Danilo Di Luca limitare i danni e se dovessero scollinare con anche 30-40 secondi potrebbero anche rientrare visto che Basso non è un fuoriclasse in discesa ne sono convinto perché Savoldelli come vedete non è in crisi tutt'altro sta salendo molto bene con il proprio passo sapeva che il ritmo di Basso e Simoni era troppo elevato per lui anche perché poi ci sono altri 9 chilometri di salita e quindi Savoldelli potrà rientrare nella discesa pazzesco Cunego a quasi due minuti ed era la prima vera salita del Giro d'Italia sul San Momè brillantissimo Damiano Cunego oggi crisi nera e non capisco perché la Lampre abbia fatto questo forcing all'inizio della salita in pratica grazie al forcing della Lampre Cunego è ormai a due minuti e se ne sono accorti tutti ed è per questo che Basso ha contrattaccato adesso ha qualche problema Danilo Di Luca nel tenere il ritmo di Savoldelli e Rujano mentre proseguono al comando Basso e Simoni impressionante come riescano a salire senza alzarsi sui pedali ecco questo è uno dei rari momenti in cui Ivan Basso si alza sui pedali Fabretti a te per la fortuna di Danilo Di Luca il tratto duro 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 è terminato adesso la strada ha spianato leggermente anche se in questo momento tornante e di nuovo si sale in modo abbastanza netto un tifoso che può creare qualche problema Ivan Basso per fortuna è stato fermato da un altro a Danilo Di Luca scusate per fortuna è stato fermato da un altro tifoso Danilo Di Luca che sta proseguendo nel suo passo e se ne sono andati Paolo Savoldelli e José Rujano Alessandro ti chiederei di rallentare per darci un aggiornamento su chi insegue se ci sono sempre caucchioli gli scarponi a 20 secondi hanno perso ancora di più quindi per cortesia rallenta un attimo in modo da darci notizie fresche siamo ormai ai 2 km dalla vetta per Basso e Simoni sta salendo benissimo pedalata abbastanza sciolta agile è un piacere vederlo anche Savoldelli si è ripreso molto bene vedete che sta tenendo il ritmo di Rujano non sta perdendo molto nei confronti dei due uomini al comando un po' più in difficoltà di Luca ma se tiene dura ancora 300-400 metri poi la salita diventa più facile può recuperare ancora secondo te Silvio ha chiesto troppo alle proprie gambe di Luca quando non ha voluto lasciare un metro a basso nella fase centrale eh sì direi di sì ora sta pagando un po' ma è un ragazzo che si sa anche gestire ho l'impressione che stia tentando di gestire questo momento di difficoltà per poi dare tutto in discesa e tentare di rientrare quello che ha fatto invece molto intelligentemente fin dall'inizio Paolo Savoldelli che sta amministrando il suo ritardo nei confronti di Basso e Cunego e Savoldelli conoscendo le sue doti di discesista tutte le la possibilità poi di rientrare Fabretti a te la spiana qui siamo intorno al 2-3% e ho visto Pietro Caucchioli insieme a Odienza a pochi secondi da Danilo Di Luca intorno ai 10-12 secondi quindi probabilmente nel tratto in discesa ha sempre a patto che questa discesa la facciano bene potrebbero rientrare il miglior Caucchioli dall'inizio del giro era ora che si facesse vedere Pietro atleta di Bovolone provincia di Verone notate quanta gente nonostante sia un giorno feriale qui sul passo Duran si arriva a 1601 metri sul livello del mare Di Luca dovrebbe riprendere Savoldelli e Ruiano e Savoldelli e Ruiano dovrebbero riprendere Basso e Simoni anche perché Simoni potrebbe stare passivo a ruota di Basso eccolo qua che proprio per le pendenze molto più agevoli si è ripreso Danilo Di Luca e a un chilometro o poco più dal campione della montagna adesso potrebbe riportarsi su Savoldelli è un ottimo treno quello là con quel treno può e sicuramente rientrerà sui primi 20 secondi da recuperare non sono tantissimi nei confronti dei battistrada parlo di Di Luca Savoldelli e Ruiano mentre Garzelli è segnalato adesso a due primi e 25 secondi quindi grande crisi per Garzelli grande crisi per Damiano Cunigo eccolo qua la grinta di Danilo Di Luca grande grande Di Luca perché signori non bisogna dimendare che questo corridore già all'inizio di aprile era là ai Paesi Baschi a lottare con gli spagnoli e ha vinto una delle gare a tappe più dure che ci siano in calendario poi se n'è andato a Maastricht e in cima a Valkenburg in cima al Kauberg ha vinto l'Amster Gold Race poi ha vinto la Freccia Vallone alla Liege ha deluso al Giro d'Italia due tappe maglia rosa sta tenendo sul passo duro anche uno dei più ardui dell'intera Corsa Rosa e si vede ancora 900 metri adesso non dovrebbe cambiare più niente vedete che Basso ha messo il lungo rapporto Simoni sta a ruota passiva eccolo qua Savoldelli è già rientrato attenzione perché in questa discesa sicuramente Savoldelli tenterà di staccare Basso e compagnia dunque ritorna a formarsi un gruppetto di 5 battistrada mentre sono segnalati a 1.45 Cioni a 1.30 Sella e addirittura a 3 minuti Damiano Cunego 3 minuti in ritardo del Veronese oggi ne potrebbe prendere 5 dei minuti e quindi uscirà definitivamente di classifica Damiano Cunego ricordiamo che questa discesa è molto tecnica lunga e tecnica entusiasmante la tattica di Savoldelli quando si è reso conto che non aveva più le gambe per tenere il passo di Basso e Simoni ha preferito rallentare con lui si è portato Rujano è salito con un rapporto più leggero e adesso proprio in cima al Duran si è riportato sui battistrada intelligentissimo Savoldelli ma grande prova anche di Danilo Di Luca Silvio prova di carattere Danilo Di Luca quello che sta onorando al meglio la maglia rosa che indossa ormai da qualche giorno come solo gli atleti di carattere possono fare Savoldelli tornando a lui è un uomo di esperienza è un uomo che ha vinto un giro d'Italia è arrivato una volta a secondo è un corridore che conosce i propri limiti è partito sornione in questo giro ma sta dimostrando sempre di più che è uno che può lottare per la maglia rosa quella di Milano 4 italiani e un venezuelano due assenze gravi parliamo di Cunego il vincitore del giro dell'anno scorso di Stefano Garzelli il vincitore del giro dell'anno 2000 Dario Daviccioni sapevamo non essere un grande scalatore normale che abbia perso contatto in difficoltà anche Sergei Gonciar ma adesso avremo una situazione completa qui in cima al Duran 19 chilometri alla conclusione 10 sono in discesa gli ultimi 9 ancora in salita una salita però meno impegnativa è bene puntualizzata meno impegnativa pendenze che vanno dal 6 al 7% sono tre grandi gradoni che portano fino qui al traguardo Cauchioli e Atienza sono rispettivamente il sesto e il settimo adesso erano segnalati a circa un minuto Alessandro sei con i battistrada? si adesso sono con i battistrada io vi posso dire che nell'ultimo chilometro Cauchioli e Atienza e Michele Scarponi hanno perso parecchio terreno perché hanno perso almeno 10-15 secondi non so con quanto siano passati adesso al GPM nei confronti del gruppo della Maderosa Scarponi dov'è? guarda stanno passando adesso Cauchioli e Atienza un minuto incredibile 57 secondi ti dico nell'arco di un chilometro perché erano lì avevamo calcolato a un chilometro dal GPM adesso affrontiamo il track in discesa con il Civetta da una parte con il Pelmo dall'altra e naturalmente Savoldelli disegna le curve nella discesa del Duran breve pausa per noi nuova Mazda 3-8 aspettatevi di tutto anche di vederla all'ottantottesimo giro d'Italia torniamo in diretta il corridore che vedete inquadrato dall'elicottero è Paolo Savoldelli il farmico bergamasco mentre transitano sul Gran Premio della montagna altri corridori tra questi c'è Dario David Cioni 1.48 quindi ha limitato i danni nell'ultimo chilometro di salita mentre più indietro segnalati a 3 minuti Cunego e Garzelli eccolo qui il drappello con Damiano Cunego e Koldo Gill ancora 400 metri di salita per questo gruppetto Gran Premio della montagna eccoli qui altri distacchi c'è Carpez Kessler Montgomery poi un corridore della Selle Italia non transita ancora il gruppo Damiano Cunego che è più indietro ancora un minuto circa per arrivare in vetta al passo Duran mentre Savoldelli davanti sta facendo il diavola 4 Basso in difficoltà non ce la fa tenere la ruota di Simoni e Savoldelli anche Di Luca adesso un po' in affanno l'agito lattico non devono rischiare cioè Basso a Basso non conviene rischiare in discesa cosa dici Davide? deve rischiare un po' perché deve comunque cercare di limitare i danni 2.55 e ancora Cunego deve passare una cotta inattesa quella di Damiano Cunego con lui è rimasto Andrea Tonti vedete il rilevamento cronometrico era corretto oltre 3 minuti in questo gruppo comprendente una quindicina di unità non c'è almeno non l'abbiamo visto Stefano Garzelli che era ancora più indietro poi però chiediamo conferma radio informazioni mi sembrava ci fossero due maglie liquigas quindi potrebbe essere qui Stefano Garzelli con Andrea Noè ce lo conferma Silvio dunque Garzelli è riuscito a tornare nel gruppo Cunego comunque il loro ritardo è pesantissimo 3 minuti Savoldelli poi Simoni in seconda posizione poi più indietro poco più indietro di Luca ed Ivan Basso l'attacco di Savoldelli in discesa eccolo qui è tornato il falco guardate che spettacolo una sicurezza una tranquillità non sbaglia una curva pensate che nella cronometro dall'Amporecchio a Firenze ed era una discesa non lunga come quella di oggi ha guadagnato 30 secondi a Ivan Basso per poi perdere tutto nel finale però per dirvi delle qualità di Savoldelli in discesa adesso c'è un tratto pianeggiante ma tra un po' riprenderà la discesa molto tecnica ugualmente anzi nel tratto finale ci sono pendenze molto molto importanti e la strada è abbastanza stretta Alessandro a te nell'arbi che invece non tiene assolutamente il ritmo forse Rucano che è bravo in salita evidentemente non è bravo in discesa comunque l'asfalto è stupendo la discesa sembra una pista da Formula 1 guardate incredibile ed è importante mangiare avete visto Savoldelli estrarre dalla tasca un prodotto zuccherino in questo tratto pianeggiante ma adesso di nuovo la discesa ecco vediamo quanto ha guadagnato Savoldelli a Simoni a Di Luca e a Ivan Basso ancora non era passato Simoni quindi siamo già nell'ordine dei 15-20 secondi guadagnati da Paolo Savoldelli Silvio si sta veramente dipingendo un'opera d'arte se vogliamo usare così una metafora non sta sbagliando assolutamente nulla mentre vediamo che Basso Simoni e Di Luca molto più prudentemente stanno scendendo ma Savoldelli veramente sta facendo il vuoto ecco abbiamo visto Simoni rallentare e aspettare Basso e Di Luca ha detto quello è matto è meglio che vada da solo esatto si è reso conto che stava rischiando troppo e non fa parte delle sue qualità Simoni che va molto forte in discesa ma non è in grado di seguire un Savoldelli veramente strepitoso erede naturale dei più grandi discesisti di ogni epoca da Fiorenzo Magni a Ugo Koblet a Francesco Moser questi e Paolo Savoldelli che spettacolo entrata nella storia quella discesa scendendo il fauniera tu Auro eri in moto dietro di lui ha dato due minuti anche a noi ed eravamo su una moto 1100 di cilindrata beh è un bel ma oltretutto non c'erano i guardrail c'erano i precipizi quindi veramente un drago in discesa anche Basso è riuscito a difendersi abbastanza bene vedete che adesso si è portato al comando con Simoni e Danilo Di Luca che ha faticato molto nell'ultima salita anche nel tratto finale un po' di pesantezza ma speriamo che in questa discesa riesca a recuperare un po' Silvio Savoldelli a questo punto vuol vincere la tappa però non è così semplice reggere sugli 8 km finali no non è così semplice assolutamente anche se come abbiamo già avuto modo di dire la salita che porta Palla Favera non presenta le pendenze del passo Duran però è chiaro che dovrà naturalmente mettercela tutta sta facendo veramente una grande discesa ma i 9 km di salita finale assolutamente non lo agevola sarà più facile naturalmente per chi sta inseguendo che hanno delle doti di scalatore da scalatore più importanti rispetto alle sue attenzione perché adesso c'è un tratto molto difficile ancora 700-800 metri di discesa poi svolta a sinistra e comincia l'ultima salita ormai verso l'abitato di Tont questo è il nome del piccolo paese 900 metri d'altitudine poi un dislivello di altri 600 metri per arrivare a Zoldo Alto località Palafavera è la salita verso Forcella Staulanza qui l'ha sbagliata vedete leggero saltino ha chiuso un po' troppo la curva anticipatamente ma è riuscito a riprendersi molto bene Danilo Di Luca con Gilberto Simoni e Ivan Basso secondo terzo e quarto Ruiano più indietro siamo in fondo alla discesa ecco qui finisce la discesa e comincia la salita che porta all'arrivo ecco direi a questo punto di far scattare i cronometri Davide il passaggio qui a Dont di Paolo Savoldelli intanto ci colleghiamo con Andrea Fusco processo alla tappa te Andrea si guarda sarò velocissimo perché capisco che il momento è particolarmente delicato ti dico soltanto dei pronostici che ho raccolto qui nella tenda del processo allora Sgarbozza e Gianni Romeo della stampa dicono Simoni mentre Fondrieste e Battaglini che ben conosce questo percorso e Tifano per Savoldelli un po' spiazzante il pronostico di Candido Cannavò che scommette su Di Luca a te la linea 20 secondi 20 secondi guadagnati da Paolo Savoldelli nella discesa del passo Duran adesso qui la salita comincia subito abbastanza arcigna per un paio di chilometri staremo a vedere dietro chi si metterà in testa Simoni dovrebbe continuare a stare a ruota per lui importante vincere la tappa e poi può contare sul fatto che Cunigo è in ritardo anche se ormai incolmabile vediamo anche Di Luca dovrebbe cercare di recuperare un po' e difatti è Ivan Basso è Basso è Basso è lui è lui fortissimo in salita che ritmo che ha Ivan d'altronde quando ha terminato la cronometro di Firenze ha detto oggi si sono andato forte ma io mi considero più scalatore che Cronomen e oggi lo sta dimostrando Betti Basso ha guardato ha guardato negli occhi Gilberto Simoni girandosi e Gilberto Simoni ha guardato negli occhi Danilo Di Luca girandosi però qui è Danilo Di Luca si stacca si stacca Danilo Di Luca è una fiondata violentissima quella che sta imprimendo Ivan Basso è il miglior basso mai visto al giro un basso che noi avevamo avuto modo di apprezzare al Tour de France là c'era un signore che si chiamava Lance Armstrong che era impossibile da staccare Ivan Basso oggi sta facendo letteralmente la differenza davanti c'è sempre Savoldelli ha perso qualcosa in questo primo chilometro anche Simoni fa fatica a tenere fa fatica a tenere Gilberto Simoni ormai basso è a 150 metri da Savoldelli è un ritmo impressionante quasi impossibile da sostenere per Gilberto Simoni che sta cercando in tutte le maniere di rimanere nella scia ancora un chilometro forse qualcosa meno con pendenze che sfiorano l'8-9% poi diventa un po' più facile ma Simoni se riesce a superare questo momento potrebbe cercare di stare con Ivan Basso ma non è semplice è uno spettacolo vedere un Ivan in queste condizioni di forma si volta Paolo Savoldelli capisce che è inutile insistere perché Basso sta arrivando si deve cercare di dosare lo sforzo come ha fatto in precedenza sul Duran vedete che Basso si avvicina sempre di più a Paolo Savoldelli è passato intanto anche Rujano con 35 secondi da recuperare su Savoldelli non ha voluto rischiare in discesa il venezuelano mentre segnalati sempre a tre minuti Cunego e Garzelli che sono ancora nel tratto in discesa vedete che Simoni ha messo un rapporto un po' più duro si alza sui pedali ma sempre agile seduto Ivan Basso bravo Gilberto si è un po' piantato adesso lo so ma è bravo lo stesso perché come si fa a tenere il passo di Ivan sta correndo con grande esperienza Gilberto Simoni le pendenze più dure sono passate Silvio si è indomabile veramente Gilberto Simoni un Ivan Basso straordinario ma un Simoni che sta veramente chiedendo aiuto a tutta l'esperienza accumulata in questi anni per tentare di tenere Basso ancora a tiro non sarà facile per lui ma ci sta tentando Ivan il terribile lo chiamavano da ragazzino oggi è davvero terribile queste rampe mi vengono in mente tutti quelli che facevano dei commenti su Ivan Basso che è uno che non attacca mai che sa sempre a ruota che non si vede non si fa mai vedere io volevo vedere altri corridori attaccare un corridore come hai detto tu come Lance Armstrong era già era già un'impresa stare con lui qui Ivan ha fatto vedere che quando ha gambe e quando sta bene non ha nessuna paura di attaccare 80 metri separano Paolo Savoldelli gran prova gran prova anche la sua da Ivan Basso poco più indietro c'è Gilberto Simoni mentre Danilo Di Luca è lì a una quindicina di secondi Fabretti a te allora Gilberto Simoni sta per rientrare su Ivan Basso il quale sta per rientrare su Paolo Savoldelli per riportarsi su di lui io mi volto e Danilo Di Luca invece è staccato di un centinaio di metri sta proseguendo con il suo passo mentre Ivan Basso è ormai vicidissimo a Paolo Savoldelli hai l'impressione Alessandro che Di Luca abbia le forze per reagire o è demotivato in questo tratto non ne ha più è nello sconforto sicuramente però non ha mollato anzi sta proseguendo nel suo passo e non è che stia perdendo tanto terreno non ha le forze sicuramente per rientrare però non perderà tanti secondi nel frattempo Ivan Basso si è riportato su Paolo Savoldelli e dovrebbe arrivare anche Gilberto Simoni perché tra un po' la salita concederà un po' di respiro vedete che adesso si è fatta dura la pedalata di Simoni molto dura molto più agile sia quella di Ivan Basso che quella di Paolo Savoldelli la reazione di Gilberto Cunego e Garzelli all'inizio della salita 4 minuti e 10 secondi forse oggi Damiano Cunego dice addio la possibilità di riconferma dell'anno scorso c'è Simoni che fa sfoggio di grinta di caparvietà si sta riportando su Basso e Savoldelli eccolo qui il gruppo con Garzelli un gruppo nel quale c'è Damiano Cunego mentre segnalati a 1.50 Sella Tienza Caucchioli Gonciar Scarpone Pozzo Vivo Bruseghin Cioni e Garate che fatica sta facendo Gilberto Simoni vede i due corridori due avversari lì ecco proprio in questo momento riesce ad accodarsi ecco adesso ci sono tre corridori e la salita concede un po' di respiro Fabretti dove ti trovi? qui con i tre Gilberto Simoni come ha detto Davide sta faticando in una maniera però cerca di riportarsi su Paolo Savoldelli ci riesce in questo momento proprio nel tratto in cui la strada spiana leggermente adesso sempre Ivan Basso davanti che studia cerca di capire la situazione di capire le condizioni dei due suoi avversari Paolo Savoldelli e Gilberto Simoni mentre Danilo Di Luca devo dire che ha perduto altro terreno ne perderà ancora Alessandro perché la salita non è dura ma forse sarebbe meglio per Di Luca aspettare Ruiano e sperare che il venezuelano abbia ancora la gamba buona dopo il tratto in discesa ecco adesso vedete qui un po' di respiro Paolo Savoldelli dà una mano ad Ivan Basso e Simoni invece cercherà di recuperare se ce la fa e recupererà almeno 6 posizioni in classifica generale Gilberto Simoni è decimo in graduatoria Simoni distanziato di 2 minuti e 10 da Danilo Di Luca la maglia rosa è a 24 25 secondi beh insomma non male dai non è proprio crisi non è crisi perché totale no però sta pagando il fuorigiri che ha fatto sul Duran lì ha fatto 2 chilometri veramente in apnea e li sta pagando in questo momento li pagherà soprattutto tra un po' negli ultimi 3 chilometri ecco lì quando ci saranno i tornanti di Luca faticherà molto e perderà anche abbastanza Danilo Di Luca comunque da apprezzare la sua corsa qui siamo su Damiano Cunego segnalato a 4 minuti abbondanti con lui Charlie Veghelius altri gregari della lampre caffitta è la vera grande sorpresa la crisi di Cunego oggi Garzelli ha qualche scusante in più la caduta di già si era difeso con i denti nella cronometro a Firenze era ovvio che Stefano Garzelli non potesse rendere al meglio dopo quanto gli era successo Ruiano addirittura 55 secondi dunque Di Luca non può nemmeno aspettarlo non può chiedere aiuti a nessuno se non alle proprie gambe Silvio ed è quello che sta facendo con grande carattere onorando come ho già avuto modo di dire la sua maglia rosa veramente con grande impegno sta tentando di gestirsi sta tentando di non andare in crisi questa non è crisi questa è proprio la prima la volontà di riuscire a resistere al Forsig di Ivan Basso e poi si è accorto che non avrebbe potuto resistere e questo avrebbe potuto causargli dei seri problemi a questo punto sta tentando di gestirsi direi ammirevole la prova di Di Luca oggi soprattutto per il carattere dimostrato mentre Ivan Basso transita sotto lo striscione dei 5 km adesso tutti e tre i battistrada sono sui pedali anche Di Luca sembrava aver passato il momento brutto adesso adesso riprende la salita c'è un altro strappo sembra che abbia recuperato qualcosa Danilo Di Luca e si dove c'era un po' da respirare è riuscito a e niente è sempre lì 25 secondi ecco adesso diventa dura per lui perché c'è questo altro strappo strappo un altro tratto di salita e ci sarà un'altra frustata forse di Ivan Basso un Di Luca comunque che ha dimostrato quest'anno di poter vincerlo un giro d'Italia perché nel caso si preparasse meticolosamente già all'inizio della stagione e arrivasse con tutte le forze a disposizione sappiamo che un corridore può tenere uno stato di forma massimo per 6-7 settimane già Di Luca è vicino ai due mesi di grande condizione quindi sta facendo qualcosa di superlativo Danilo Di Luca e potenzialmente un domani potrebbe resistere tre settimane se prepara il giro sì perché come hai detto tu sta attraversando un momento di forma straordinario la forma della sua vita una superiorità che ha dell'incredibile dopo un anno difficile quest'anno la consacrazione per Danilo Di Luca sta lottando sta facendo una fatica incredibile ma non molla un aggiornamento sugli inseguitori a un minuto c'è Rujano a 1.50 Atienza Caucchioli Ardila Van Ruffel Goncia Resca due minuti e 0.05 Sella più indietro Cioni e sempre a quattro minuti abbondanti il nutrito gruppo con Cunego e Garzelli eccolo qua il gruppo di Cunego con Tonti con Garzelli niente da fare oggi giornata no per Damiano Cunego giornata sì una nuova giornata sì per Ivan Basso cosa può essere successo a Cunego Silvio? ma sai non è facile interpretare probabilmente a questo punto dobbiamo dar ragione a quello che ci hanno sempre raccontato che Simoni era il vero capitano di questo Giro d'Italia fin dalla partenza probabilmente all'interno del team Lampre Caffitta sapevano che Cunego non aveva poi questa condizione uguale o simile a quella dell'anno scorso oggi al primo vero esame ne abbiamo avuto la conferma eccolo Danilo Di Luca grossa difficoltà per lui adesso diventa durare perderà sicuramente altri secondi dunque Ivan Basso si appresta ad indossare per la prima volta nella sua vita la maglia rosa lui che l'ultima volta che è venuto al Giro d'Italia è stato nel 2000 poi ha sempre scelto il tour ha imparato l'università e riprova Ivan vuole sbarazzarsi di Gilberto Simoni che in caso di arrivo allo sprint potrebbe impensierirlo bravissimo Savoldelli 5 minuti in ritardo di Cuneco di Cuneco e Garzelli mi prenderà anche 6 o 7 alla Rio ai 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 Simoni adesso potrebbe ancora resistere perché tra un po' la strada torna pianeggiante addirittura c'è una piccola discesa però dopo ancora salita per affrontare gli ultimi tre chilometri di un altro pianeta oggi Ivan Basso sulle rampe prima del passo Duran e poi di Zoldo Alto Savoldelli che a questo punto diventa il principale avversario di Ivan Basso in questo giro d'Italia non dimentichiamoci di Simoni ma non bisogna dimenticare che Simoni in classifica generale deve recuperare già due minuti a Ivan Basso quindi perderà qualcosina anche oggi Alessandro a te Simoni si è staccato sembra definitivamente eh sì mi sembra proprio che abbia mollato definitivamente hanno guadagnato 60-70 metri Ivan Basso e Paolo Savoldelli adesso prova a rialzarsi sui pedali si risiede nuovamente in sella si volta Paolo Savoldelli percepisce che Gilberto Simoni è in difficoltà rilancia l'azione che spettacolo a pensare tutto quello che hanno passato sia Basso che Savoldelli guarda viene da commuoversi a vederli in queste condizioni una grinta una classe una determinazione Paolo Savoldelli due anni due anni pieni di infortuni di malesseri dentro e fuori l'ospedale fratture incidenti e Ivan il grande dolore di aver perso la mamma pochi mesi fa Savoldelli un lutto che l'ha caricato l'ha stimolato si è preparato in maniera perfetta per questo giro d'Italia e oggi all'esame non è ancora un esame di Laura non è una tesi questa è un esame importante per il prosiegue siamo solamente all'undicesima tappa eh sì hai parlato di Savoldelli pensate che nel 2003 in seguito ad un incidente e ad un virus ha corso solamente 15 corse praticamente non ha mai corso anche nel 2004 un bruttissimo incidente è stato lontano dalle corse pertanto e quest'anno eccolo qua a lottare ancora per la maglia rosa siamo a 3 km dal traguardo qualcosa meno Simone è lì a 10 secondi questo è un tratto che potrebbe anche favorire lo scalatore di Palù di Giovo ma ormai c'è perfetto accordo tra Paolo Savoldelli e Ivan Basso Fabretti dove ti trovi? mi trovo proprio a Bagnomaria io sì tra Paolo Savoldelli Ivan Basso e Gilberto Simoni che prova nuovamente a riportarsi sui due ma se a 3 km dall'arrivo erano 10 secondi adesso potrebbero essere 12-13 ti chiederei per cortesia di rallentare così ci dice a voce quello che succede alle spalle dei battistrada dal momento che loro possiamo seguirli con la telecamera quindi dici quanto ha Di Luca di ritardo e soprattutto chi c'è dietro perché avevamo notizie fresche sino a qualche minuto fa ma abbiamo bisogno di aggiornamenti riprende la salita questo è l'ultimo tratto eccolo qua Gilberto Simoni e Danilo Di Luca Silvio oggi se non altro abbiamo avuto delle risposte che aspettavamo con la crisi di Damiano Cunego Simoni ovviamente diventa il capitano unico della formazione Lampre Caffita a questo punto Cunego se dovesse ritrovare la condizione nella terza settimana potrebbe essere di aiuto importantissimo a Gilberto Simoni abbiamo capito che Savoldelli è il vero rivale di Ivan Basso Alessandro a te a due chilometri e mezzo dalla conclusione Danilo Di Luca 45 secondi dai battistrada bene grazie vuol dire che potrebbe arrivare con un ritardo leggermente superiore al minuto si direi anch'io e continua Basso adesso comincia questa serie di tornanti Silvio ma sai oggi abbiamo avuto si delle prime risposte importanti però non dimentichiamo che siamo solo alla prima vera grande tappa di montagna questo giro propone delle giornate veramente terribili sotto l'aspetto altimetrico e quindi oggi è capitato a Cunego domani potrebbe capitare a qualcun altro è evidente che da quello che abbiamo visto oggi Basso straordinario forte a cronometro il più forte in salita un Savoldelli che sta tentando con tutte le sue forze di rimanergli vicino un Simone indomabile che malgrado il momento di difficoltà sta tentando di rimanere a galla è un Di Luca che sta onorando la maglia rosa come di meglio non potrebbe fare una fotografia perfetta Fabretti a te a 1.40 Rucano e Atienza poco più indietro a 1.50 il gruppetto di Pietro Cocchioli di Michele Scarponi di Sergei Gonciar chiedo a Mario Lubrani di andare ancora più avanti ecco basta basta qui Mario grazie e di Van Uffel quindi in 4 a 1 minuto e 50 voi al limite dei 2 minuti dunque sia Scarponi che Cocchioli che Sergei Gonciar il giro è letteralmente esploso oggi Davide eh sì è esploso con l'attacco di Van Basso quando si è accorto della difficoltà di Cuneco e Garzelli si è messo in testa e ha demolito gli avversari adesso cercheremo di capire se Basso disputerà una volata vero se lascerà la vittoria Paolo Savoldelli qui c'è in ballo anche la buono quindi non si può scherzare bisogna prendere delle decisioni mirate a volte anche ciniche di Van Basso non ha mai vinto una tappa al Giro d'Italia però al termine di questa prova sarà Maglia Rosa lui non è un velocista come velocista non è Paolo Savoldelli siamo ormai all'ultimo chilometro Paolo Savoldelli ha vinto la tappa di Borgo San Dalmazzo perché nel 2002 vincendo il Giro d'Italia non era riuscito ad imporsi in nessuna tappa e se questo è l'antipasto quando arriveranno i primi e le portate principali chissà cosa succederà Davide sarà un giro pieno di sorprese perché oggi lo ricordiamo l'hai già detto tu è solamente la prima di una lunga serie sabato il tappone Dolomitico domenica lo Stelvio e poi il prossimo weekend in terra di Piemonte con il colle di Tenda e il temibilissimo colle delle finestre Simoni ha ceduto ai tre chilometri dal traguardo ma come giustamente l'ha definito Silvio Martinello oggi il Trentino è apparso indomabile finché ne ha avute di forza e di energia è rimasto lì si è ceduto perché proprio di più non poteva dare tanto di cappello nei confronti di Gilberto Simoni Savoldelli ha imparato una cosa in questa squadra l'agilità come vedete Armstrong ha inculcato anche in lui questo modo di salire con un rapporto molto agile Di Luca all'ultimo chilometro dovrà cercare di difendere ma questo sarà sicuramente così la terza posizione perderà la maglia rosa Danilo Di Luca sarà scavalcato anche da Paolo Savoldelli e quindi si inserirà in terza posizione crediamo a meno che non abbia perso tanto nei confronti di Simoni in questi chilometri finali qui Simoni potrebbe perdere poco perché si stanno un po' studiando vedete che Savoldelli sta controllando il rapporto sembra di rivedere la scena a La Monge con Lance Armstrong e Ivan Basso adesso al posto di Armstrong c'è il Falco Bergamasco Savoldelli già pronti per la volata hanno già messo la catena sul 53 perché gli ultimi 250 metri sono pianeggianti non si alza sui pedali Ivan per adesso non sembra intenzionato a disputare lo sprint alle spalle di Ivan Basso c'è Savoldelli vedete si alza sui pedali è sprint vero è sprint vero 200 metri ancora tutto in testa Ivan Basso lo affianca Paolo Savoldelli sono ormai vicinissimi al traguardo Paolo Savoldelli ma in maglia rosa c'è Ivan Basso il giro signore e signori è esploso oggi con il forcing di Ivan Basso che va a conquistare la maglia rosa e un caparbio Paolo Savoldelli che cerca spiegazioni da Ivan probabilmente gli è chiesto ma come mai non me l'hai lasciata direttamente la tappa Simoni grande difesa la sua 21 secondi per Gibo Simoni capitano unico da oggi della lampreca fitta anche Danilo Di Luca va apprezzato per quello che è riuscito a fare sono sette settimane che ha tutta Danilo Di Luca Alessandra a te Paolo oggi è stata una tappa eccezionale si ho ottenuto il massimo risultato alla fine non ho collaborato con Basso perché per me la vittoria era troppo importante dopo due anni così non potevo rischiare di tirare e poi magari essere staccato un accordo no non c'è stato un accordo ho fatto il furgo è andata bene grazie Savoldelli quindi avevamo interpretato bene la richiesta di delucidazioni tra Savoldelli e Di Luca probabilmente Savoldelli si aspettava che Ivan Basso gli lasciasse direttamente la tappa invece è stata volata vera Alessandra a te Danilo Di Luca oggi hai dimostrato di essere testardo capardo ce l'hai messa veramente tutta forse un po' troppo forte sul Durant ma sul Durant stavo molto bene poi andando avanti c'è stata un'andatura molto forte di basso che è andato veramente forte comunque sono molto soddisfatto perché nonostante oggi ho pagato un po' ho pagato un po' ho limitato abbastanza i dati hai fatto un giro d'Italia eccezionale fin qui Danilo si adesso forse si inizia a vedere un po' stanchezza altrimenti oggi sarei potuto comunque arrivare con i primi e giocarmi la vittoria però sono molto soddisfatto grazie grazie molte è arrivato Caucchioli con lui Sergei Gonciar due minuti in ritardo poco prima a Tienza transita Michele Scarponi due primi 18 il ritardo del capitano della Liberty Seguros poi Ardila il colombiano qui dovremmo essere con Emanuele Sella ormai ai 100 metri finali scalatore Vicentino vediamo ecco il passaggio di Sella e Algan e Patrice Algan arriva anche Bruceguin e Pozzovivo bravo Pozzovivo anche Bruceguin è riuscito a contenere entro i tre minuti in ritardo arriva Garate mi sembra capitano della Sonier Duval il basco Garate dovrebbe essere superiore ai 5 minuti in ritardo di Cunego e Garzelli che sentenza oggi pesantissima la generale Auro presidente della corte oggi Ivan Basso madonna ne ha condannati un bel po' sì l'unico che è riuscito a salvarsi è come è stato proprio Paolo Savoldelli guardate qui Alessandra a te siamo accanto a Bjarne Risse Bjarne come a commentare questa giornata ma è bello dato tutto come come volevamo noi no io sono molto contento ha dimostrato una padronanza Ivan incredibile ha fatto tutta la salita seduto lui corre così lui ha una bella forza delle gambe le schiene per essere seduto sempre lui non è uno che va sempre in piedi vi aspettavate una debacle di Cuneco sì sì perché ma io penso che è un giro questo è molto livello molto alto è ancora presto per lui ancora un po' giovane poi questa salita che è veramente dura fa male a lui ha perso tanto sì però è anche un po' demorale questo è non male però posso dire lui che lui deve continuare comunque è come che è un grande corrigione grazie Bjarne Risse a voi beh non me l'aspettavo che Bjarne Risse dicesse sì sì la crisi di Cuneco era nell'aria nessuno io non me l'aspettavo anche perché quando ho visto gli uomini della lampra tirare addirittura sono stati loro fare il forcing sul Duran c'è stato l'attacco di Simoni e la crisi improvisa di Cuneco è stato lì che Basso ha deciso di contrattaccare e alla fine ha fatto danni perché solamente Savoldelli è riuscito a salvarsi in corner anche Simoni si è piazzato terzo anche Di Luca con orgoglio è riuscito a limitare i danni ma tutti gli altri sono andati alla deriva ecco il gruppetto dei ritardatari qui c'è anche Paolo Bettini Damiano Cunego ai 300 metri dalla linea quasi 6 minuti il ritardo c'è Mazzanti c'è Tiralongo Schleck Schleck 6 minuti signori 6 minuti il ritardo del vincitore del giro dell'anno scorso il talento del nostro ciclismo oggi ha pagato un Dazio pesantissimo sta arrivando Paolo Bettini ma lui non aveva ambizioni per la classifica generale lotterà per la maglia ciclamino dunque vittoria di tappa Savoldelli e in maglia rosa Ivan Basso può partire la sigla processo alla tappa grazie per l'attenzione il vincitore del giro dello scorso anno strepitoso Ivan Basso i suoi continui attacchi mettono alla frusta tutto quanto la carovana rosa resiste almeno in fase iniziale di Luca poi si stacca così come poi Simoni sarà costretto ad arrendersi nella parte finale del Duran al termine uno sprint in volata è tornato il falco in discesa e basso e alla meglio per pochissimo Savoldelli che vince la tappa ma la classifica è sconvolta la maglia rosa Ivan Basso secondo Savoldelli terzo di Luca Simoni è in quarta posizione mentre vedete Savoldelli sul podio ancora una volta alle prese con il tappo della bottiglia ma è ormai questo non fa più notizia buonasera benvenuti al processo alla tappa allora la classifica come dicevamo è completamente sconvolta mancano certamente gli argomenti per discutere di quanto è accaduto io comincerei subito con Giovanni Battaglini che ha vinto nell'81 gira e vuelta ma nell'80 proprio qui a Pecol vinse la tappa al passo del Duran quando staccò Ino e Panizza oggi vedendo questa gara che cosa è successo che cosa è successo oggi Battaglini nel passo sul passo del Duran non si capisce molto con questo fracasso di rumori che ci sono comunque nell'80 io ho vinto questa tappa ed è stata un'annata buona per me oggi si è ripetuta e si è visto che quando si danno battaglia agli atleti viene fuori la selezione è venuto fuori il migliore peccato per Cuneo che ha preso ormai il giro è finito per lui però può ancora vincere qualche tappa ma ormai per il giro è stop è out è out Cuneo per il giro per me si ormai troppi minuti non può più competere poi ha dimostrato anche che non è in grandi condizioni Basso l'ho sempre pronosticato vincitore a Milano quindi penso che non non sia niente da ridire un grande Basso una grande bella tappa perché ha dimostrato il suo valore oggi ecco vediamo anche che Renato Pozzetto non soltanto ha la passione per i motori ma anche per il ciclismo mi rivolga a Gianni Motta abbiamo sentito in diretta durante la telecronaca di Bulbarelli e Cassani che Bjorn Risse ha detto mi aspettavo la crisi di Cuneo perché Cuneo oggi ha fallito a Motta ma io penso che abbia sbagliato abbia sbagliato non è giusta questa affermazione perché una crisi può arrivare a tutti oggi purtroppo è capitato a Cuneo forse anche perché ne ha risentito dalla prima tappa prima tappa in salita soprattutto per me è sbagliato perché vorrebbe dire che Cuneo quando ci sono le tappe dure non c'è e non è vero non è vero perché Cuneo non aveva il corso e ha vinto delle tappe durissime quindi quello che ha detto prima Risse non è corretto non è corretto non è neanche sportivo quasi bene grazie a Gianni Motta allora andiamo a vedere proprio la classifica generale Di Luca in terza posizione Simoni a 2'27 io qui mi rivolgo proprio a Silvio Martinelli per quanto riguarda le tre posizioni Di Luca ha resistito benissimo grande la tappa di oggi Simoni 2'37 è assorbibile questo ritardo per te Silvio? ma con un Ivan Basso in queste condizioni la vedo dura per Simoni però conoscendo il suo carattere credo che ci proverà in tutti i modi oggi è stata una giornata magnifica è stato uno spot promozionale di un'efficacia straordinaria per il ciclismo abbiamo visto di tutto abbiamo visto corridori che mai domi tentavano il Simoni e il Di Luca di resistere agli scatti di Basso Basso che mi ha sorpreso perché tra l'altro oggi è scattato moltissimo ci ha fatto la parte del Simoni quello che non va in salita solo in progressione ma continuamente soprattutto sul passo Durand tentava di scattare e questi scatti hanno messo subito in difficoltà Cunego e poi un po' alla volta anche tutti gli altri è stata una giornata straordinaria per Simoni si fa difficile però il terreno che gli aspetta è talmente difficile che la giornata di crisi può capitare anche a Ivan Basso allora volevo sentire da Candido Cannavoi da Gianni Romeo della Stampa cosa scrivere sulla tappa di oggi beh io dico che al vertice è un'equazione matematica se uno è più forte nella cronometro e batte gli scalatori nella salita è uguale grandissimo favorito del giro cioè è la matematica pura al di là di questo io dico che la bellezza di questa tappa che Silvio ha definito quasi un'antologia del ciclismo c'è anche la faccia dei perdenti il modo come Di Luca per esempio ha cercato di difendere questa maglia rosa lui poteva essere già sazio di quello che il giro gli ha offerto nella prima parte ma si è attaccato con una tenacia perché lui sperava di arrivare ancora con i primi se crediamo nello sport io credo che questa è una bella immagine come è un'immagine da ciclismo vero e drammatico la sconfitta di Cuneco la crisi che ci ricorda le grandi crisi che anche i massimi campioni della storia hanno provato quando non capisce per nulla coppia primolano o tante altre di queste cose quindi il ciclismo va vissuto nelle sue gioie nelle sue emplese ma anche in queste immagini di grande dolore io credo che la prima cosa che si debba dire oggi è quella che con Basso abbiamo trovato un campione fino a ieri pensavamo di avere un mezzo campione tre quarti di campione Basso dava l'immagine come dire di un succhi a ruote dell'uomo eternamente alla coda di Armstrong e certo Armstrong è un campione difficile da superare quindi Basso gli stava dietro ma quando ha avuto finalmente l'opportunità di lottare alla pari con gli altri umani quando Armstrong non c'era ha dimostrato che non è soltanto un succhi a ruote è un uomo coraggioso che sa attaccare e sa veramente dare un'impronta alle sue corse aveva scommesso su Savoldelli anche come Battaglina Luigi Sgarbozza oggi il giro finalmente si può dire che è veramente cominciato senza fare torti a chi ha vinto fino a questo momento cosa ti è piaciuto soprattutto veramente avevo scommesso su Simoni non su Savoldelli hai ragione Simoni è rimasto ma devo dire che oggi questa etapa è stata un terremoto a pensare che ci sono cinque etappe per scalatori e questa io la ritengo la più facile figuriamoci che cosa succederà nelle prossime etappe per scalatori che ci saranno devo dire grande Savoldelli un corridore ritrovato e quindi insieme a Ivan Basso diventa in questo momento il grande favorito De Bacle di Cuneco proprio perché sicuramente non me l'aspettavo io ho capito anche i motivi spiegherò questi motivi nelle prossime puntate e sono rimasto deluso anche da parte che cosa c'è di tanto segreto è lungo il discorso ah no no allora fai bene non è questo momento tu non puoi privare no 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 ci può privare perché lungo il discorso direttore i motivi li so io li dirò le prossime puntate Simoni sono rimasto deluso anche da parte di Simoni qui intanto però ammiriamo un attimo la grande capacità di scesa è un angelo un vero falco Savoldelli un corridore grandissimo i motivi di Simoni mi ha deluso perché un corridore forte scalatore come lui ha sofferto a tenere la ruota di Ivan Basso Ivan Basso oggi ha corso come ha corso Armstrong al Tour de France allora l'applauso adesso per Savoldelli eccolo qui ciao complimenti allora pregherei adesso Nazareno Balani di ritornare su quanto ci ha fatto vedere fino a poco tempo fa cioè le discese perché a nostro avviso questa vittoria di Savoldelli eccolo qui intanto vuoi un attimo commentare queste discese si diceva è tornato il falco ma diciamo che in questa discesa non ero lucidissimo perché mi hanno tirato il collo sulla salita ho visto che Basso era il più forte ho dovuto avvantaggiarmi un po' perché conoscevo la salita finale e sapevo che la parte più dura era all'inizio e avevo in mente visto che sono riuscito ad arrivare in cima con loro di avvantaggiarmi un po' per poi salire con il mio passo la prima parte e farmi raggiungere sul falso piano così è stato poi c'è stato uno scatto di Basso e il cedimento di Simonio ho dato qualche cambio a Basso per fare un po' di vuoto e poi chiedo scusa a Basso ma sono stato sulla sua ruota perché per me era troppo importante vincere la tappa lui prendeva la maglia e è andata bene così allora beh anche perché hai preso 20 secondi da buono velocemente Cannavoa e Romeo mentre sta arrivando la maglia rosa Ivan Basso allora aspettiamo aspettiamo un attimo anche la maglia rosa Ivan Basso che però viene trattenuto all'esterno delle tendone c'è anche Roberto Conti ed eccoli qua ciao Ivan benvenuto eccoli qua i due grandi protagonisti della tappa di oggi vicini come sul traguardo microfono subito a Ivan Basso te l'aspettavi un Savoldelli così in forma oggi? ma sicuramente Savoldelli era uno degli avversari più forti all'inizio di questo giro tutti sapevamo che era uno dei candidati io non ho mai sottovalutato nessuno e continuo a non sottovalutare nessuno fino il giro si vince a Milano non oggi Crisi Cunego domanda per Savoldelli e Basso e poi la parola Cannavoa e Romeo ecco questo è il vostro arrivo commenta intanto questo arrivo Paolo io ma praticamente diciamo che Ivan ha fatto il lavoro negli ultimi due chilometri io sono stato sulla sua ruota come ho già spiegato prima perché volevo vincere la tappa venendo da due anni che dove ho corso poco così due anni che non faccio più il giro d'Italia non so quale sarà la mia tenuta nell'ultima settimana perciò devo cercare di raccogliere il massimo che posso adesso non ci crede Ivan Basso questa è una dichiarazione così di difesa tanto per dire allora un secondo per un grande avversario che praticamente ha dato l'addio oggi alla maglia rosa finale Cunego come si spiega Ivan? sinceramente non non so niente non mi va di commentare un giorno difficile per un mio collega credo che possa capitare a tutti e chiaro cambia un po' la sua corsa però credo che possa capitare a tutti allora Cannavò e Romeo per Savoldelli allora Basso cominciamo con Basso cominciamo con Basso e vista la tua superiorità nella cronometro oggi tutti si aspettavano che tu ti attaccassi dietro controllassi gli scalatori che avrebbero dovuto darti fastidio invece sei stato tu a scattare perché scattavi perché speravi di staccarli o per intimorirli un po' come fanno certi grandi campioni no io questa tappa è da da molti mesi che che l'ho in mente sono stato due giorni qua sulle Dolomiti ancora un mese e mezzo fa e ho ripetuto due volte questo questo finale della tappa e oggi volevo volevo fare una grande prova e io sul Durano ho fatto la mia corsa non guardando più i miei avversari da lì fino all'arrivo ancora a te Basso oggi dopo la tappa di oggi qual è il primo nome che tu fai dei tuoi avversari più pericolosi hai una graduatoria dei tuoi avversari più pericolosi fai un primo nome ma io credo che i due corridori che erano con me in salita sono i due corridori che che daranno più fastidio però non mi va di sottovalutare nessuno perché questo Giro d'Italia c'è ancora veramente molta montagna e come ripeto una giornata difficile può capitare a tutti scusate è arrivato in questo momento un comunicato vorrei anche che Savoldelli e Basso lo commentassero in maniera molto pacata allora l'associazione internazionale gruppi ciclistici professionistici l'associazione ciclisti professionistici associati l'associazione medici delle squadre del ciclismo professionistico rilevano che data la trasparenza dell'operato dei medici sportivi e della loro disponibilità ad attenersi a qualsiasi direttiva emanata dagli organi preposti non sussistevano i presupposti della misura cautelare gravemente lesiva della onorabilità dei professionisti che partecipano alla manifestazione ciclistica più importante d'Italia tanto più che nel suo chiaro esauriente comunicato l'U.C.I. ha rilevato che nulla di quanto sequestrato è considerato illetto dell'U.C.I. 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 dell'U.C.I.